Ok, dunque, dall'ultima volta siamo rimasti che avevate ucciso praticamente tutti i banditi che vi avevano assaltato e vi eravate rimessi in cammino verso la città di Karlsgaard. Siete arrivati ormai alle porte e, come Sandro vi annuncia, siete destinati a finire nel quartiere d'Osso, ovvero il quartiere più povero e malfamato di tutta la città, poiché gli abitanti del luogo, i nativi, non vedono di buon occhio le carovane varisiane e non consentono ad esse di accamparsi da altre parti, se non che nel quartiere d'Osso. Dunque, dovrete stanziarvi lì. Certo, comunque c'è da dire che... Ho una domanda. Sì. Essendo che c'è Kelda, che comunque, se ho capito bene, viene da qua, no? Sì. Non potrebbe intercedere? Beh, in realtà è un comune cittadino in ogni caso, non è una figura così rilevante da avere diritto di parola in tal senso. Ma poi mi pare che lei volesse essere accompagnata qui per poi partire per conto suo, cioè non penso abiti qui. Sì, voleva tornare al suo clan in ogni caso. Ah, ok. Allora, avevo capito male, io pensavo fosse una guerriera della città. Beh, Kalsgaard comunque attira ogni genere di guerriero e di combattente urfeno, però chiaramente Kelda non appartiene alla città in sé, ma è quantomeno al massimo un abitante che potrebbe risiedere qua. Ecco, cioè non ha così rilevanza da poter intercedere, tutto qui. È grossa comunque questa città. Che gigante. Sì, ha 70.000 abitanti più o meno. Cazzo è più grossa di Corvosa. A tal proposito... Parecchio, parecchio grossa, non vedo quanto sarebbero i 6.000 feet, ma... Esatto, quindi a tal proposito... Vabbè, adesso non prendere la... Ecco, 6.000 feet, eccoli qua. Dunque, a tal proposito, fatemi delle... Se volete, fatemi delle prove di conoscenza per sapere un po' di più sulla città, volendo. Di che tipo? Potete farmela di locali, intanto per cominciare. Di... Sì. Allora. Ok, dunque, locali. Bene, Aidan, cosa sai su Kalsgaard? È una città chiaramente enorme e multiculturale. Per quanto la maggior parte della popolazione sia Ulfena, e tra parentesi, anche praticamente più della metà della popolazione di tutte le terre dei re Linnorm risiede a Kalsgaard. Porca puttana. Eh già, oltre a questo, la città ha presente anche un grande numero di tiani e di varchi. Ovvero, un'etnia che risiede, o meglio, deriva dalle lande del nord, ancora più a nord di Kalsgaard e dei regni dei Linnorm. Queste due etnie convivono con gli Ulfeni in tutta l'armonia, a fianco perfino ai nani, ad alcuni ignomi, alfling, alfi e talvolta anche a razze più esotiche. Un'altra grande percentuale di abitanti della città, come dicevo, sono i nani, i quali si trovano molto bene in un posto del genere per affinità con, potremmo dire, i locali del posto. E si sono integrati ottimamente nella cultura e nella tradizione del popolo ulfeno. Questo è quello che sai su Kalsgaard, sono informazioni piuttosto basilarie, a dir la verità. Il resto, purtroppo, non ti è dato a saperlo, non hai fatto studi così approfonditi. Bene. Dunque, entrate in paese dalla porta che dà sul quartiere dell'Osso e fin da subito notate quanto sia estranea, diversa da ciò che conoscete, dall'Avarisia. Questa città, chiaramente, presenta sia una tradizione, un'architettura e una cultura totalmente diverse. Notate subito le parti più povere e sporche della città. Molti immigrati dalle Belle Speranze giungono a Kalsgaard e purtroppo però finiscono qui molto spesso, nel quartiere dell'Osso, senza un lavoro stabile, fisso, che possa provvedere ai loro bisogni. E finiscono nella povertà. Allora, vabbè, noi entriamo da nord? Allora, in realtà sarebbe... Sì, 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 da nord. Sì, effettivamente è messo così. Questo è il fiume, esatto, questo è il fiume Brinarivo. Voi praticamente siete arrivati da sud, però dal momento che dovevate risiedere nel quartiere dell'Osso avete praticamente circunnavigato la città e siete entrati da nord. Aspetta, ma è al contrario la mappa. Guarda, c'è il nord giù. Quindi è al contrario, è girata verso... cioè la parte portuale è verso nord. Sì, io l'ho trovata così, allora aspetta. Ok, però le scritte si girano, se la volti. No, la gira adesso, non l'avevo notato semplicemente. Eh, ma se la giri... Eh, le scritte si girano. Lasciala così, dai. Eh sì, va bene, lascia così, che se ne frega. Quindi noi entriamo da sud. Quindi da qua. O da qui? Sì, voi entrate, esatto. O da qui? Da qui, da qui, te l'ho detto, dal quartiere dell'Osso. Perfetto. Allora, noi siamo venuti qua. Cioè, questo è soltanto un passaggio perché noi siamo comunque diretti. Sì, voi siete... Sì, esatto, perché voi siete arrivati a Kalasgard, vi ricordo, con l'intento di trovare su Isshen la spada della famiglia Matatsu. E sapete, vi ricordate, che un tale mercante di nome Finn Snevald potrebbe avere a che fare con la spada, perché tempo addietro, quando il nonno di Ameiko si trovava qui nelle terre dei Lindorm, vendette la spada per commissionarsi il viaggio verso sud, proprio a questo mercante. Ok, quindi è comunque una transazione abbastanza recente, è lo stesso mercante. Sì, sì, insomma, una transazione di 20-30 anni prima. Anche di più, in realtà, sì, 30 anni prima. Chiaramente il mercante potrebbe essere morto a questo punto, voi non vi è dato saperlo per ora. Niente, ok. Quindi noi percorriamo questa strada qua. Esatto, vi accampate nel quartiere dell'Os, tra le moltitudini di carovane varisiane. A dire il vero, vi trovate piuttosto a vostro agio in questo ambiente. Chiaro, è un po' degradante, però, soprattutto per chi è abituato a viaggiare con le carovane come Aidan, avere un ambiente in cui vi sono dei fratelli varisiani accanto a voi non è del tutto male. Ecco, in un paese così distante e lontano, sia per geografia, geograficamente parlando, che per cultura. Finché restiamo nel ghetto, dici? Ma tutto bene? Sì. No, beh, in realtà c'è da dire che Karsgård in generale è una città molto aperta. Fintanto che non create problemi, al massimo la gente vi guarderà con un attimo di curiosità, ma non mai di razzismo, ecco. Ah, va bene. Allora, ci svincoliamo un attimo dai doveri. Sì, quindi mi serve che Tauno faccia una prova di diplomazia. No, dico cazzate. La devo fare io. Parliamo sempre delle meccaniche della carovana. Sì, sono le meccaniche della carovana per vendere. Che però in questo momento mi sforgono, perché ogni volta devo ricordare tutto il cazzo di regolamento. Intanto fatemi una prova di conoscenze religioni o locali, per sapere di più sul quartiere d'osso, già che vi trovate qua. Religioni. Tauno. Solo tu. Da studi che hai fatto durante il tuo addestramento, studi piuttosto sommari, piuttosto magari anche da qualche libro che hai letto durante il viaggio sulla città, ti sei un po' informato sulle pratiche religiose che si praticano a Kalsgaard, soprattutto anche per interessarti magari se ci fosse stato qualche sostentore di Shizuru. Ti ricordi? Che proprio in questo quartiere vi sono le macerie di quello che era stato in passato un grandissimo tempio, una torreggiante chiesa di pietra di Erastil, dedicata ad Erastil. Purtroppo però rimase gravemente danneggiata quando un incendio la distrusse circa 80 anni fa e da allora i sacerdoti la abbandonarono e non tornarono mai più. Fatemi un check di locali, se ce l'avete. Sì, sì, ho chiesto prima. Era quello? No, no, per dirti che ce l'ho. Ma stima stasera. Dai, seriamente. No, niente, allora niente. Quanto pare era lo stesso di prima. La mia domanda, ma noi possiamo, al di fuori della carovana, possiamo girare per la città oppure comunque... Certo, certo, avete la possibilità di girare per la città, potete anche pernottare nelle osterie, locande, taverne e chi che sia senza problemi. L'importante però è che la carovana in sé rimanga nel quartiere dell'Osso e chiaramente Sandru e compagnia non hanno intenzione di abbandonarla a se stessa. Quindi se voi avete intenzione di andare altrove per trovare una condizione migliore in cui pernottare, potete farlo. Ma sappiate che la maggior parte dei vostri compagni desidera rimanere alla carovana. Per quanto mi riguarda potremmo rimanere tutti alla carovana, o almeno io farò così. Ok, prima dell'intern, un pochino più inside, quel discorso che avevo fatto durante il viaggio, no? Che mi ha risposto solo Akira. Come si è comportata comunque, Kenda? Mi puoi ricordare, perché l'avevi scritto in chat, mi pare, mi puoi ricordare un attimo cosa di... Le mie scuse per l'atteggiamento, dicendo che la situazione mi aveva portato a ragionare più come il sergente Dracchici che come Tauno Amutazzo. Beh, Calda, accetto le tue scuse. In ogni caso gli urfani non sono rinomati per mantenere la propria rabbia, ira, quando la parte che ha offeso si scusa sinceramente, chiaramente in base alla situazione, in modo più o meno eclatante, ecco. Ti ha ammazzato la famiglia bruciando l'altro discorso. Sì, esatto. Invece, in merito a quelle che sono le visioni che ci hanno poi condotto qua, no? Perché, se non ricordo male, erano visioni, giusto? Quando abbiamo toccato la... Sì, sì, sì. Le aspettative di dialogo, nel senso, le impressioni che ci hanno fatto le persone viste quando abbiamo ideato, ok, andiamo a recuperare la spada della famiglia Amatazzo, che impressione abbiamo avuto, o almeno che impressione ho avuto, delle varie parti coinvolte? C'è possibilità, magari anche mediante un riacquisto, non so, poi vedremo un caso che fine abbia fatto, però se si arrivasse a dialogare con le persone coinvolte, l'impressione era che fossero comunque ostili e che fosse tipo, magari il nonno di Amatazzo fosse tipo proprio costrettissimo o così o niente? Cioè, non so se riesco a spiegare la situazione. Ti stai riferendo al mercante, dici? Che ha comprato la spada? Sì, nel senso, per dire, magari... Sì, ho capito che cosa intendi. No, semplicemente sembrava una transazione normale qua, senza nessun capito particolare. Il nonno di Amatazzo era costretto dalla situazione a venderla, non dal... Non era... Fin non ti appariva come uno strozzino o qualcosa del genere, semplicemente lui esercitava la sua professione e ha comprato questo cimelio dal nonno di Amatzo. E il nonno di Amatzo era visibilmente un nobile o comunque una persona di un certo lineaggio oppure poteva essere scambiato per un normale viaggiatore? Perché comunque... No, la seconda chiaramente, questo l'avevo già accennato, durante il viaggio verso sud chiaramente la famiglia si è nascosta, si è tenuta molto in disparte, senza esternare il proprio lineaggio, chiaramente. Ok. Domanda sulla... Io scusate, raga, faccio un po' di recap anche per capire come muove. Sì, sì, no, giusto. Ho detto che le mie conoscenze mi riportano di questo tempio. Io sono un fedele di Shizuru, però so che comunque non è molto venerata, se non addirittura per niente, da queste parti. Esatto. In che relazione potrebbe essere la mia religione con quella della divinità che ha un tempio devastato e non curato in questa città? Allora, Erastil sicuramente presenta delle affinità con Shizuru, quando si parla degli antenati della comunità. Shizuru è molto legata dal concetto della famiglia, del rispettare la propria tradizione degli antenati e su questo si può trovare un certo parallelismo nella religione di Erastil, per quanto Erastil in sé lo porti più all'estremo, nel senso di proteggere proprio anche la comunità in sé e non solo gli antenati e la famiglia. Capito che intendo? Sì, Erastil va più sul dominio della comunità piuttosto che su volo dell'onore, in sostanza della gloria della famiglia e dell'onizzo. Quindi in ogni caso certi parallelismi si possono ritrovare, però sempre parlando di Shizuru potresti trovare qualcosa e qualcuno di fedele anche probabilmente un tempio o quantomeno un santuario nel quartiere di Giada. Aspetta, io questo lo so di mio? Sì, cioè in realtà più che saperlo lo puoi intuire perché... Da Giada? Sì, allora il quartiere, te lo ha spiegato Penzo Aidan, che questo quartiere, come si dice, è il fulcro della vita, della civiltà, della società che si è venuta a creare dopo le immigrazioni tiane verso Karasgard, quindi se c'è un luogo nella città dove potresti trovare Fedeli di Shizuru sicuramente è quel quartiere. Ok. Poi, volendo, Aidan puoi farmi una prova di locali per vedere se sai qualcosa in più sul quartiere di Giada. Oh, l'ho fatto 9 comunque. Allora, il quartiere di Giada, sai che è stato usato come dimora per il flusso costante di immigrati del Tianxia provenienti da oltre la corona del mondo. Molti di essi provengono proprio dall'imperio del Minkai e il quartiere di Giada ha assorbito molte delle usanze natie, degli stili architettonici e delle tradizioni di quella terra, mescolandoli in una combinazione insolita con quelle olfene e dell'avistan settentrionale. Anche se la maggior parte degli abitanti del quartiere di Giada è di discendenza tiana, il distretto ospita anche una nutrita popolazione varchi, composta da membri di quel gruppo nomade che ha scoperto di trovare di suo gradimento una vita stabile. Nonostante questo, però, i numerosi matrimoni misti che nel corso del tempo si sono venuti a formare e un nutrito traffico commerciale hanno fatto sì che un gruppo di individui di etnia diversa da culatiana sia ormai una vista ampiamente comune per le strade del quartiere di Giada. Per i visitatori, che siano tiani o originari del mare interno, spesso si ha l'impressione di entrare in una comunità aliena quando si arriva nel quartiere, probabilmente perché sono frastornati dal bizzarro miscuglio di artisti popolani, rigide tradizioni, fedi imperscrutabili e perfino qualche occasionale creatura rara e mescolata al brusio dagli strani linguaggi. Un giorno così per visitarlo si può perdere. Meta turistica. Esatto. Ma sono venuto qua a vedere il Jade in quartiere di Giada. Immagino che mentre facciamo queste prove noi stiamo parlando di quello che sappiamo. Sì, chiaro, chiaro. Cioè, queste prove in gioco sono tradotte come appunto un dialetto di voi. Sì, chi sta... Aidan che sta facendo la guida enciclopedica della città mentre vi addentrate all'interno e sistemate le varie cose. Mentre vi piantano i paletti delle tende. Io lo sapete il quartiere di Giada. Sì, esatto. A me non dispiacerebbe andare a visitare il quartiere di Giada. Magari c'è un tempio di Shizuru. Nonostante io non ne sia fedele, a parte l'altare e i pochi simboli che avevamo nel nostro... Si può dire Dojo? Dove mi sono addestrato? Sì, sì. Ok. Quartiere delle nuvole, cosa? Niente, è una battuta di Skyrim. Ah! Senti, sei mai stato nel quartiere delle nuvole? Dicevo... Non mi dispiacerebbe magari poter visitare un tempio della mia dea. Io li fermo un secondo. Allora, i giri carini sono carini. Però la cosa fondamentale è che dobbiamo affrancarci alla vista di queste persone. Se vogliamo avere un qualsiasi potere contrattuale con chiunque. Quindi, sì. Magari farei i bei giri per i templi, lo possiamo fare con calma. Però per la prima cosa vorrei vedere come poter fare il nostro vecchio lavoro. Vi ricordatelo? Siamo delle guardie, dopo tutto. Esplorando il quartiere di Giada potremmo anche sapere delle condizioni del resto. Cioè, dell'altro territorio. E magari riusciremo a trovare informazioni in merito a chi potrebbe minacciarci. D'altro giorno hanno attaccato noi. Io non credo che sia un caso. Siamo stati proprio noi, bersagli, durante il viaggio. Ma guarda, secondo me qui il problema è che... Dobbiamo cominciare dal basso. Se relegano i viaggiatori a questo quartiere, molto probabilmente è da questo quartiere che riusciremo ad affrancarsi. Sandro ti guarda sorridendo un po' storgnone. Più che ti sbagli, caro è il mio amico stupido. Non rilegano tutti i viaggiatori in questo quartiere, solo i viaggiatori varisiani con delle carovane. Quindi tu puoi stare qua. Bastardo. Dimelo ancora. Dai. Cosa sei te se non un varisiano come me? Beh, guarda, l'unica cosa che mi sono è varisiano. Oltre ad essere rosso... Oltre ad essere rosso, la tua cultura è come la mia. Cultura? Chi ha mai detto di avere cultura? Non ho cultura. Ho un pugno. Fine della cultura. Lui sembra... Sembra divertito, ma stranamente non continua la discussione. Probabilmente intuita che ha problemi più attuali, importanti a cui pensare. Tutto qua. Tipo, è finito il divino. Sì. Quindi... Beh, io comincerei a vedere un po' come l'umore è qua. E se c'è qualcuno a cui ci si può avvicinare. E poi piano piano mi uoverei per la città. Poi, questa è la mia. Quindi... Su Podfender raccogliere informazioni come funziona? Diplomazia. Sì. Di conseguenza, voi, adesso potete iniziare a girare per i vari quartieri, partendo da quello addosso, oland, e chiedere un po' in giro. Possibilmente se qualcuno conosce Finn, Finn Sneerwald, cose di questo genere. Faccio un idonather su Tauro. Io faccio... Cerco informazioni sul quartiere, appunto, sul mercante. Lo faccio anch'io. Idonather. Ok. Mi sa che era meglio se la faceva Tauro. Diciamo che Tauro e Akira fanno Idonather su Idon. Perfetto. Nice. E dunque... Allora... Raccogliete informazioni un po' in giro su dove potrebbe trovarsi questo Finn Sneerwald. E scoprite piuttosto facilmente, in realtà, apprendete che Finn è vivo ed in buona salute e lavora come mercante indipendente di ambra e olio di balena, oltre ad essere un noto collezionista di antichi tattiane. La sua abitazione si trova chiaramente in città, nel quartiere d'ambra, e può facilmente essere rintracciata. vi danno indicativamente le indicazioni e ci arrivate senza problemi. Andiamo subito là? Vabbè, possiamo andare subito là. Ragazzi, un attimo. Cioè, questo edificio, insomma, cos'è che è? La sua abitazione? Ah, ok, ok. Non avevo capito. Va bene. Beh, andiamo subito al punto. Vediamo. Sì. Ok, perfetto. Quando camminiamo in giro, così... Sì, 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 ora ti... Vuoi che ti descriva? Cioè, lo stavo già... No, ok, però, prima ti fassi una domanda. Ok. Sembra che la forzata ghettizzazione variziana di questo posto stia portando problemi, barra... malcontento di qualche tipo, non lo so. No, in realtà non proprio. Non è un problema attuale per la città. Non è considerato... Probabilmente i variziani accettano la propria condizione perché sono abituati ad essere trattati come zingari fuori dalla varizia. E conti fatti è quello che sono. Ok. Quindi non c'è effettivamente nessun problema. Certo, alcuni potrebbero stizzirsi dal fatto che gli ulfenni li considerano la stregua dei malviventi scizarni. Però... È la condizione, ecco... del popolo variziano. Allora mi faccio cazzi miei. Perfetto. Dunque... Attraversando il quartiere d'Osso, arrivate praticamente subito al quartiere d'Ambra, al quartiere del Corno. Lo attraversate giusto momentaneamente ma non avete nemmeno quasi l'opportunità di vederlo e scoprirlo per bene. Per quanto riguarda il quartiere d'Ambra, potete farmi una prova di conoscenze locali. Mamma mia. Dunque, sai che è il fulcro della manufattura e della produzione a Caldard. Sai che i negozi che vendono merci simili tendono ad aggregarsi assieme lungo le vie del quartiere. Quindi creano tipo vie a tema. Esatto. Cosa che consente ai clienti di confrontare i prezzi più facilmente. Tra l'altro, qui sono disponibili merci di ogni genere, ma le strade che sono vigilate più attentamente dalle guardie sono quelle dei gioiellieri e dei cesellatori di metalli preziosi, chiaramente. Certo. In caso non l'abbiamo fatto, possiamo rivendere le varie pietruzze che abbiamo preso. Sì, esatto. L'abbiamo già fatto. Ah già, nell'avamposto che abbiamo incontrato prima. Se volete, diciamo, mascherarvi un po' per così dire, per entrare un po' più nell'atmosfera, nella cultura ulfena, sapete, o meglio ve lo spiega Aidan, che gli uomini ulfeni prediligono i bracciali e i torc, mentre le donne tendono ad indossare spigli circolari e collane a catenella, con cui sorreggono le loro tuniche. Inoltre, entrambi i sessi amano indossare anelli e fermagli da mantella. Beh, sinceramente, vista la multiculturalità della città, non lo farei, cioè... Cioè, non pensi sia necessario, però... Ho sulla maschera quella che copre la parte sotto del viso, ma basta. La parte sotto? Sì, quella la faccio da Oni. Ah, sì. Perché normalmente c'è il viso normale, quindi... Sì, 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 sì. Perfetto. Bene, oltre a questo, chiaramente vendono anche altri videooggetti, tra cui armature, secchi, pettini, coppe, chiavi e armi, che sono decorate con incisione o placati in metalli preziosi. Chiaramente, essendo chiamato quartiere d'ambra, vendono anche olio e pezzi d'ambra. Ah, per i turisti. Ok. Sì, effettivamente sì. Ok, un'ultima cosa che devi sapere, Aidan, è che di recente si è sparsa la voce che il serpente Gijada, un idolo inestimabile riportato dai primi esploratori ulfeni che raggiunsero il Tianxian migliaia di anni fa, sarebbe tornato alla luce nel quartiere d'ambra. Certo, le dicerie di questo tipo continuano ad affiorare intervalli di anni e circolano innumerevoli storie su coloro che avrebbero trovato la statua di questo drago feroce. Soltanto per perderla di nuovo o subito dopo, in quanto l'idolo stesso tramerebbe per fare ritorno nel Tianxian. E quindi ci cadrà presso tra le mani. Esatto. Per forza. Perché tutte le sfighe noio, giusto? Eh. È la legge. Vuole solo un passaggio, in realtà, il drago di Gijada. Il serpente di Gijada. Magari può trasformarsi in statua a comando. In realtà è un gargoyle. Esatto. Comunque passiamo attraverso il quartiere d'ambra, senza... Cioè, se niente succede... Certo, non succede niente. Come vi dicevo, come vi stavate aspettando, al massimo vi lanciano qualche occhiata per l'aspetto bizzarro che avete. Di contro, però, a voi, gli abitanti del posto, gli urfani, sembrano molto rozzi e coatti. Sai che non riesco proprio a immaginarmela in ambitropoli così denordici? Sì, è... Non saprei come potertelo descrivere in termini reali, ecco. Effettivamente non è che ci siano... No, nel senso che... Così come è mostrata, è talmente densa da popolazione, da edifici. Perché, di base, avrei immaginato tipo Solitude, capito? Eh sì, Solitude, col porto. Però non ci sta, perché è troppo densa, c'è troppa roba. Immaginati, io me l'immagino, tipo... Una distesa infinita di... Di quelle case, delle long house, così. Sì, esatto, prova a descrivertela. La maggior parte della città sono praticamente case con il tetto di paglia lunghe, ammassate in tutti i quartieri. A differenza solo del quartiere del Fuoco, dove effettivamente ci sono edifici a più piani. Praticamente tutto il resto della città comprende case di questo tipo ad un piano solo. Immaginati questo, ecco. Le strade non sono minimamente curate come una città del sud, non sono lastricate. Sono piene di fango e terra e chiaramente sporche. Insomma, penso di aver reso un po' l'idea. È una metropoli, ma è una metropoli che in confronto alla città del sud è degradante. Cioè, è un gigantesco villaggio. Sì, esatto. È un villaggio troppo cresciuto. Murato, insomma, vi sono... Poi chiaramente qua e là vi sono certe eccezioni. È un villaggio di 2 km quadrati, ragazzi, non è troppo cresciuto. Cioè, un po' più di troppo cresciuto. 6.000 piedi sono 1.800 metri, quindi all'incirca tra tutto saranno quei... Almeno quei 2 km quadrati saranno... 2 km quadrati? Sanno molti più, eh? 2 km... Scusa, tu mi avevi detto che i... Lì, i 6.000 feet erano una cosa tipo così. Eh, però, aspetta... No, qua, guarda qua quanti sono... Sono questi. Ah, ok, l'è ingrandita. Io prima non la vedevo tutta. Beh, allora è molto del tuo, ecco, capito. Sì, è gigante. Comunque, piccola parentesi, Gianmaria, le proporzioni di hoppare erano completamente sfasate. Sì? Sì, cioè, guarda qui quanti sono, 6.000 feet. E lì quanto erano? Eh, da una parte all'altra era tipo un chilometro. Ah, ok. Vabbè. Comunque, ha attraversato il quartiere d'Ambra senza problemi. E ha arrivato... Vorrà una giornata? Eh? Ci vorrà una giornata da qua qua? Oddio, una giornata no, però sai, qualche ora forse sì. Vabbè, con la gente. Eh, effettivamente una retta ci vuole anche... Manca di più. Anche più. Beh, comunque sì, vi prendete il vostro tempo. Eh già, effettivamente, vi prendete il vostro tempo. Ma scusa, due chilometri, un'ora, scusa. Guarda che non stai viaggiando a passettino su una strada libera. Cioè, una città così sarà affollata, cioè... Ma dipende, cioè, non è che... Vabbè, ma... Certo. Ok, ci vuole un'ora, perfetto. Dai, sì. Sì, infatti, non è un ambito di discussione. Comunque, arrivate alla casa... All'abitazione di Finn. Che sta? E... Cosa? Nel quartiere d'Ambra sta? Sì, 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 diceva, nel quartiere d'Ambra. Me la segni? O mi indichi? Allora, approssimativamente... È qua, raga, l'abbiamo. Tipo... Sì. È questa. È questa. Cioè, allora, obiettivamente non serve saperlo perfettamente. Prendi sta via qua, più o meno dici che è su questa via. Prendi la prima traversa e la trovi. Questa qua, diciamo. Ok. Perfetto. Se vuoi te la segno anche. Facciamoci. Eccola qua. La casa di Finn. Ok. Che più o meno ne comprende una ventina. E beh, altrimenti è ricco, eh, ragazzi. Bene. Cosa fate? Vi trovate di fronte alla sua abitazione? Come... Come... È ancora sana? Cioè, integra? Sì, sì, sì. Perfettamente sana. Appare... Forse un po' più sontuosa, per così dire. Relativamente chiaro. Rispette all'altra abitazione. La domanda giusta sarebbe lui con me... Cioè, il suo tipo... Come dicevo, commercia... Commercia ambra e olio di balena. Fa le sue trattative... C'ha il negozio in casa oppure no? Eh, probabilmente farò le tratte di grande quantità, cioè, se non ha il negozio. Sì, esatto. È un commerciante in grosso. Ehm... Beh, comunque... Ci sono guardie fuori? No. Ok. No, non vi sono guardie fuori. Entriamo. Ci abusiamo. Intrigamo. Bussate. Dobbito mostrarvi... Busso troppo forte e abbatto la volta. Interessati alla spada? Beh... Non vedo perché no. Già. È una cosa... È una cosa successa talmente tanto tempo fa. E sarà più che altro un aneddoto da raccontare ai nipoti. Qualcosa che realmente importa. Ok. Bussate. Chi è? Visitatori. Cosa volete? Discutere. Discutere. Non sembra un buon metodo per... E di cosa volete discutere, visitatori? Ci è stato detto che lei è un collezionista di prodotti tiani. Avremmo piacere di poter vedere la sua collezione e parlarne. Un attimo di silenzio. Fino a quando di fronte a voi il grande portone in legno massello non si apre, rivelando una figura slanciata ma massiccia, dalla folta capigliatura e barba completamente bianche, rivelando un altro uomo anziano. Minchino... Cioè, chino al capo e mi... Ve l'ho linkato. Faccio tipo un cenno a te. Non lo so. De salute. Vi faccio simpatica. Vi guarda e vi sorride. Prego, prego entrate. Abbiamo tante cose di cui discutere. Mh-mh. Entra. Sì, anch'io. Vi fa accomodare nella sala principale della sua abitazione e fa portare... Sì? Immagino che una volta entrati lui ci farà strada, giusto? Sì. Io chiaramente... Scrutola sua aura... Da dietro. Non è malvagio. Ok. Dunque, come stavo dicendo... Vi fa accomodare nella sala principale e fa portare dai suoi servitori birra tiepida e pane croccante. Bene. Sedendosi un po'... Un po' con difficoltà, chiaramente acciaccato... Vi osserva. Vi osserva. E vi facendo... Birra tiepida e pane croccante, c'è un chiamo. Aspiti desideratissimi. Beh, probabilmente da queste parti è una... Comunque un po'. È una birra tiepida, eh. Beviti una birra tiepida e tacci, cazzo. Vai a casa della gente e chiedi anche. Insomma, io preferirei una Coca-Cola, però, eh. Una Fanta. Ma che ne sa, questo è uno ricco. O a toilette di pollo, per favore. Gente interessata alla sua collezione, sai... A casa di un collezionista... Ascolta, hai già tanto di che la faccio entrare. Sì, esatto. Bene. Vi facendo di iniziare a parlare. È una storia che comincia 30 anni fa. 30 anni fa c'è stata una compra vendita con voi. Da parte di un antenato di un amico. E... Questa compra vendita vi ha fruttato una spada. Immagino che la ricordiate. È un pezzo decisamente unico. Lui... Sembra sul momento strabuzzare un attimo gli occhi e poi sorridere con piaciuto. Certo che me la ricordo. Al diavolo se me la ricordo. Quella spada maledetta e benedetta. Accidenti... Accidenti a lei e... E a quegli stronzi che me l'hanno rubata. Sì, perché... Ehm... Non so che razza di coincidenza sia questa... Amici miei. Ma... Una settimana fa, all'incirca... Mi è stata sottratta la spada di cui voi parlate. Ti è stata sottratta? Così improvvisamente? Ti sono entrato in casa? Mettiamola così. Io sono tornato a casa dopo aver svolto i miei affari e ho trovato l'intera abitazione completamente sottosopra. I miei servitori morti. Solo uno di loro era ancora in vita. No, qualcosa di più che un furto allora. Ehm... Lui annuisce silenzialmente prima di riprendere a parlare. Solo lui è riuscito a raccontarmi cosa è accaduto prima... Prima di spirare. Al diavolo. Ah, quindi è morto anche lui alla fine. Già, già è morto. Tutti i miei servitori. Quanto tempo fa è successo? Settimana scorsa hai detto? È successo... No, poche settimane fa. Troppe settimane fa, se sono più dura. Sì, lui sembra rispondere un po' in maniera confusa quando fai questa affermazione. Probabilmente non avendo capito bene cosa è. Cos'entendesse. Sì, nel senso, per fare le verifiche sui visi cadaveri nel caso. Ormai sono andati. Ma ormai sono belle e che bruciate. Ah, hai contattato le guardie, immagino. Sì. E che cosa c'è? Niente, quei bastardi non mi hanno detto niente. Non hanno aperto nemmeno uno sviluppo. No, scusate. Sono un attimo... Quando parlo della spada succede che mi scaldo, sapete. Volevo dire, non c'è stato nessuno sviluppo. Nessuno sviluppo, niente di niente. L'unica cosa che so è quello che mi ha detto il mio servitore, prima di morire. Allora, raccontaci. Prende un pezzo di pane e se lo mette in bocca, prima di tirarlo giù con un sorso di birra. Adesso parla col pane in bocca. No, no, prima lo mette giù con la birra. Solo per disturbare Andy. Manavra di Heimlich, di Akira, gli sfondo la testa. Dunque, dunque dicevamo. Una banda di ladri mascherati e vestiti di nero ha fatto eruzione in casa mia e ha rubato la spada. Questo è tutto quello che so su ciò che è accaduto. Però posso dirvi, insomma, cosa è successo nel corso del tempo con questa spada, come l'ho acquisita. Anche se immagino che lo sappiate già più o meno, dato che ve l'avete chiesto voi. Sappiamo. Certo, sarebbe interessante conoscere anche la vostra versione dei fatti. Diciamo che non mi è mai importato molto della spada. A parte il fatto che fosse un trofeo rimasto a cogliere polvere per... In realtà non erano 30 ragazzi, ma 50 anni. Per 50 anni... Sapete, quando ero più giovane ho provato a brandire l'arma, ma ogni volta che lo facevo provavo una sensazione sgradevole. Quindi l'ho lasciata lì a prendere polvere. Certo, non sei tu l'erede. Eh? Cosa? Non ho eredi? Sì, 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 è vero. Sì, non hai eredi. Anche per questo voglio farvi un'offerta. E si spinge verso di voi col corpo, insomma, con la testa per avvicinarsi. Dal momento che non me ne faccio più di nulla di questa spada e tra poco spiererò... Beh, sono vecchio. Sono vecchio. Ho ormai 90 anni. Sicuramente il mio tempo su questa terra sta per giungere al termine, ma il punto è... Avete mostrato interesse per la spada? Vi faccio un'offerta. Voi trovate chi me la sottratta e gliela fate pagare. E in cambio potrete tenervi la spada. E volete sapere una cosa? Qui, qui nelle terre del nord, funziona così. Loro, chiunque me l'abbia rubata, doveva per legge... ...pagare un compenso. Un cosiddetto guildrigildo. Guildrigildo? Già, eh... L'hanno fatta questa parola mettendo insieme le lettere prese da una tombola? Guildrigildo? Ragazzi, non so cosa sia una tombola, ma... Tutti questi discorsi sono insensati. Sì, quanto quella parola. Esattamente cosa sarebbe questo guildrigildo? Guildrigildo, non guildrigildo. Ah, vedi. Qua cambia tutto. Adesso so cos'è. Beh, in ogni caso, questo guildrigildo è un risarcimento su ciò che... Su un torto che viene fatto, ecco. Mi ero dovuto, ma non mi è stato fatto. E adesso esigo una vendetta di sangue, come è giusto che sia, per legge. Perdonatemi, io non vengo da qui, chiaramente. Ma quindi, nella vostra cultura, i ladri sono tenuti a pagare un compenso? Non è proprio così... Sembra stupido, chiaro, se la metti sotto questo punto di vista. Di solito, chiaramente, questo compenso, nella stragrande maggioranza delle volte, viene pagato dopo che i ladri sono stati acciuffati. Tutto qua... Però, è buona norma, per evitare problemi, per evitare che si sviluppino dei risvolti più macabri. Pagare un compenso, qualora si facesse qualsiasi tipo di torto. Chiaramente, i torti maggiori, come la srealtà al proprio signore, o il tradimento vengono pagati con l'esilio o con la morte. A Kalsgard non ci sono molte prigioni, sapete. Le uniche che ci sono servono per tenere i prigionieri giusto qualche giorno per eseguire la sentenza. In certo senso, le prigioni siano le banche in questa città. Bene. Hai già erediti tuo, quindi. Per lasciare tutto il resto della roba, dico. No, no, erediti. Lo stavo dicendo prima. Cavolo, mi ascoltate quando parlo oppure no? Guarda che te lo sei immaginato, non me ne hai detto. No, sono purtroppo sicuro di avertelo detto. Vabbè, comunque. Era solo per puntualizzare. Che, oltre alla spada, lascerai tutto questo pendidio a chi? Alla città? Non ne ho idea, ragazzo. Non ci ho pensato. Piuttosto me lo porterò nella tomba, sì. Interessante. Tipica mentalità. Parlando di tombe, e per favore un attimo di pace perché ho appena ripreso fiato. Parlando di tombe, con che armi sono state uccise le sue guardie? Che tipo di equipaggiamento usavano i ladri? Non ne ho idea. Per niente. La sua guardia non le ha detto come hanno cito, cioè cosa ha combattuto. La mia guardia, che tra l'altro era un servitore, è spirato subito poco dopo. Non ha fatto in tempo formulare un discorso. Che ferite avevano? Ferite da taglio. Sì. Come se fossero tagliati da una spada. Ma questo penso che sia... Sì, erano ferite ampie oppure ferite piccole, corte e profonde. È veramente importante. Sì che lo è. Potrebbe aiutarci a capire che tipo di ladri fossero. Te lo dico io che tipo di ladri erano. Erano dei ladri dannatamente bravi perché sono entrati in casa mia, sono usciti in una città in cui i cittadini, ogni cittadino è dovuto dalla legge, deve, scusatemi, deve per legge Arrestare, fermare ladri qualora si presentasse l'occasione. Potremmo dire che ogni cittadino è tutore della legge in tal senso. Guardi, un buon ladro non commette una strage per rubare un oggetto. Secondo me più che buoni ladri erano buoni assassini. Sì. Tagliagole. E neanche così tanto buoni che ne hanno lasciato in giro. Sono entrati chiaramente per rubarmi la spada. Poi che abbiamo lasciato dei morti semplicemente, probabilmente perché non gli interessava di non farne tutto qua. Hai preso il discorso come ragionate voi? Non c'è bisogno di un servizio del genere, magari un omicidio, un furto a pagamento. Dove va a rivolgersi in questa città? Ci saranno due uffici e posti a partire. Da nessuna parte. In questa città i criminali non sono ben visti da nessuno e vengono puniti semplicemente. Se ci sono attività illegali... Un omicidio d'onore... E legge un cavaliere al proprio posto. Il mercante fin sembra alterarsi perché tu lo stai continuamente parlando sopra. Mentre... Cioè tu gli fai una domanda e poi parli scopra e vedi che si sta senza andare ad alterarsi. Non è considerato un omicidio quello che tu chiami omicidio d'onore. È semplicemente una... Potremmo dire un duello, sì. Un duello. I duelli sono consentiti per legge. Ma introdursi nella casa di qualcun altro, sterminare i suoi servi sommariamente, non è un duello. No, quello che intendevo io è che magari se esiste qualcuno che mette a disposizione dei duellanti potrebbe mettere a disposizione anche altro. Non penso che esista un... No, non ho idea. Un ufficio di reclutamento duellanti. Ma... Non avete un'arena? Un'arena? No, niente di questo genere. I combattimenti non... Vengono... Vengono svolti un po' ovunque, ecco. Se mi stai chiedendo se c'è qualsiasi tipo di gilda, di duellanti, no, non esiste niente in tal senso. Chiaro, possono esserci mercenari, vari, ma... Praticamente ogni quartiere ha le proprie guardie, ogni mercante ha le proprie guardie, ogni qualsiasi cittadino influente a Kalsgaard ha le proprie guardie. Cavolo, perfino i plebei hanno le proprie guardie. Ognuno qui è armato, ognuno qui ha diritto di portare un'arma, addirittura i capi dipendenti hanno per dovere, per legge, devono rifornire di armi i propri sottoposti. Le guardie hanno delle guardie, anche. Già. Questa è una città armata. Quindi chiunque avrebbe accesso a tali, come li chiami tu, servizi, ecco. Capisco. Da dove sono entrati i fiteri figli da scoprirlo. Non ho idea, probabilmente da una finestra. Ti dispiace se mi faccio un giro in casa? Ecco. Faccio brofist a town. Rispondo con un brofisto, però fatto male perché non ho già di che cosa sia un brofisto. Minchia, ma ti manca tutto. Io con i pugni faccio tutto, dai saluti a picchiare... Eh, io faccio scontri pecatane e flauti dritti lucidi, quindi... Eh, ma te sei sempre con il flotto in mano. Che fatica, cazzo. Beh, Finn vi porta in giro per la casa e vi fa vedere, diciamo, il punto in cui sono morte le guardie. Ah, cavolo. Una... Mi ero scordato una cosa che mi aveva comunicato il mio servo prima di ispirare. Aveva morborato qualcosa come... Che il leone paghi il prezzo. Ma chiaramente non ho... Non ho... Insomma... Non ho idea di cosa a cosa si riferisca. Penso, sì, spero che voi abbiate un indizio in più. Se siete venuti qua a chiedermi della spada, probabilmente state già indagando. Ecco. Più o meno. Vabbè, voglio dire, dopo il guidere Gildo, che il leone paghi il suo debito, voglio dire, è una cosa... Particamente... La domanda era, tipo, noi l'abbiamo già sentito qualcosa del genere? No. Oppure uno spin-off crossover dei... Dei Lannister presenti qua? No, perché sennò il leone lo paga sempre, il proprio debito. Eh sì. No. Tiamo proprio di no. No, è proprio perché è la cosa meno strana sentita nella conversazione che dovremmo dargli più attenzione. Comunque... Cos'è che va? La scena di... Dai su, ragazzi, un po' d'attenzione, meno cazzeggio e... Posso prendere venti nella scena del crimine nelle stanze di mitro? Non c'è niente, non c'è niente, fine. Non c'è un cazzo. Non hanno forzato nessuna finestra. Non c'è niente rilevante per quello che dovete fare, tutto qua. Non vi ricordate niente di ciò che avete trovato nell'imboscata dagli urfani? Ah, avevano le... I bracciali con leone. I bracciali, sì, i bracciali. Bracciali come? Aspettate. Con leone, con leone. Forse è scritto di... Ma non mi sentite? L'ho detto tre volte, è quel leone, quel leone. Eh, bravo. Corleone. Pensate che sia importante saperlo? E comunicarlo magari a Finn. Ah, non li ho scritti nel coso, nel tesoro. Non so se questo sia un tizio affidabile. Comunque siamo stati attaccati da dei briganti con dei bracciali, con su dei... Leone. Leone. Ma che mi venga un colpo. Accidenti. 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 Leone, i bracciali. Sì, sì, è sicuramente lui. Sicuramente. Vedete che si mette una mano sulla folta barba e inizia a lisciarla. Dale Asfig, spalle lunghe. Un... Un capoclan di Kalsgård che vive nei pressi della città. Una delle sue pietre runiche rappresenta il leone. Cavolo, non sarei mai raggiunto una conclusione simile, semplicemente da ciò che mi ha detto il mio servitore. Vabbè, comunque tiro fuori uno dei... Si riferiva proprio al guide rigido. Lo smetti. No, è vero. Cioè, nel senso che pagherà il suo debito sarà questo, faccio a pagare il debito. Sì, sì, è sicuramente così, ma io mi chiedo, perché parlare in codice? Perché non dirmi direttamente, cazzo, è stato Asfig, vallo a uccidere. No, il leone paghi il prezzo. Ma che cazzo vi va in mente? Una persona stava morendo, magari era un po' confuso. Era un coglione, te lo dico io che cos'era. Accidenti a lui, mi sono arrovellato per settimane, perché questo coglione pace l'anima sua, in ogni caso. Madonna. Respira, accidenti. Respira, che sono schiatti. Ad ogni modo dove potremmo trovare questo Asfig? Asfig, stanno i pressi della città, lo troverete sicuramente. Basta che prendiate la strada che passa dal quartiere del Corno e vi dirigiate lungo quella strada. Ecco, un po' più in là ci sarà una traversa. E da lì qualche abitazione entrerete nelle sue terre. Vabbè, chiedemi in giro quindi. Sicuramente lo conoscono. Perfetto. Hai qualcosa a che fare con lui? Io? Tratte mercantili, che ne so. Ah, niente. Perfetti rancori. Niente, niente di niente. In realtà... Beh, non avevo nemmeno un motivo o un contesto valido per sospettare di Asfig. Per quello mi sono incazzato per il mio servitore. Accidenti, l'ho anche... Stai calmo che sei vecchio e schiatti. Sembra... Effettivamente quasi come che gli stai perprendono un malore. Stai calmo. Si siede e si riposi. Penseremo noi. Hai seduto? Siediti di più. Allora, sediti di più. Io ho capito che eravamo in piedi davanti al posto. No, era schio, anch'io. Ha detto, vi fa accomodare. Che vuol dire vi fa accomodare? Ma non eravamo andati a vedere dove c'era stato l'omicidio. Ci mettiamo a seduto. No, hai ragione. No, no, sono stupido io. Eravate in piedi, hai ragione. Eravate in piedi. Beh, dunque si... Si accascia. Si prende un attimo. Ma no, in realtà si prende un attimo. Cerco in giro la sedia più vicina e si mette un attimo lì per riprendere il fiato. Non deve preoccuparsi. Alla luce di questi nuovi indizi abbiamo fatto grandi passi avanti. Presto sarà tutto risolto. Se fosse veramente Aswig voglio che vendicchiate il mio nome. E in cambio, come vi ho promesso, potrete avere la spada. Non si preoccupi. Avrà tutte le monete che vuole da portare nella tomba. Non voglio monete, ragazzo. Voglio una vendetta di sangue. Ah. Men che meno? Comunque, sì, posso capire. I vostri servitori hanno uno di così grande valore per voi. Non si tratta solo di quello. E anche, capite, il danno che mi ha fatto, l'affronto che mi ha fatto. E' introdursi così in casa mia. Uccidere la mia servitù. Questo è una vigliaccheria bella e buona. Avesse bussato prima, sarebbe stato più un regolo. Da, da, cazzo, su. E' morta della gente. Dai. Ehm, bene. Beh, fate i vostri conveniboli con Finn e immagino... Che andiamo per strada, sì. Torniamo verso la carovana direttamente oppure vogliamo fare... Andiamo dritti. Torniamo verso la carovana, ci mettiamo sei ore a tornare qua. Quindi andare direttamente lì. Andiamo a cercare delle domande in giro, magari, su questo film. Sì, su questo... Prima lo farei. Prima tiro i pugni, poi ti faccio le domande. No, io farei le domande prima. Un po' in giro. Poco in giro. Che sento poco in giro? Io faccio... Io ricerco informazioni in merito. Certo, ci spostiamo nel quartiere del corno e poi facciamo le prove. La mozzia per cercare informazioni. Facciamo un po' su uno, un po' su l'altro. Ok, perfetto. Allora. Allora. Ho tirato più di cinque oggi. Tre tiri. Fate domande sui bracciali con la testa di leone. Sì. Fatemi una prova di conoscenze locali o nobiltà. Mhm. Per chiedere informazioni. Ok, perfetto. Allora. Come... Come vi aveva accennato Aswig, adesso avete la conferma definitiva che la testa di leone è il simbolo runico di Aswig, spalle lunghe. Ora potete farmi una prova, un'ulteriore prova, sempre di conoscenze locali o nobiltà, per apprendere dove si trova la sua tenuta. Ho anche diplomazia in realtà, potete farmi. 21 non basta. Entrambi? No, 21 non basta. Va bene, allora facciamo anche diplomazia. Non posso fare una prova di pugni. Io faccio Aidanother, insomma. Spide, ovviamente. Era scontato, no? Mhm. L'abbia iscritto, mi pare. No, non basta. Cioè, ma quindi chiedono in giro tipo, ehi, dov'è la casa di... Eh, dovremmo riprovare, continueremo a cercare informazioni. Ma sì, ma nel che vada ci sarà tipo un comune. Un registro. Non possiamo andare direttamente da lui. Ma scusa, lui non ci ha detto tipo, andate lì in quella traversa. Sì, ci ha detto andate ad est, poi c'è una traversa e trovate dei villaggi. Cioè, era sicuramente utile con informazioni. Eh, infatti, cioè non vi ha detto la zona, ci ha detto un po' la... Diciamo, possiamo ritentare l'immunizia? Vorremmo ritentare, sì, 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 sì. Io stavolta provo sinceramente, speriamo che... Bene, bene. Però io ho preso anche sotto un gatto. Insurta qualcuno per sbagliare. No, 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 però io me la sono presa con un gatto, Neko. No, dici tipo, ma che bel bracciale, forse un bracciale da donna? Beh, eh... Facciamo così. Vi mettete insieme. Con gli altri, con i compagni, quando iniziate a capire che non siete riusciti a trovare niente. E finalmente riuscite a racimulare tutte le informazioni che vi servivano, mettendole insieme e apprendete dove si trova la tenuta. Tempo trascorso? Sei giorni. Qualche ora, qualche ora. Ok, che... Esatto. Che cosa siamo riusciti a scoprire, almeno la posizione? Allora, siete riusciti a scoprire, sì, la posizione della casa di Auschwitz? E avete appreso che la nave, il martello di Aril, è di proprietà della gilda mercantile dei Corrieri di Brina. È importante. Aspetta, aspetta, aspetta. Ce lo puoi scrivere. Aspetta, devo scriverlo io. Devo trovare la scheda. La scheda, qua. Gilda mercantile dei Corrieri di Brina. Brina. B-R-I-N-A. Ho capito, se tu parli nasale non è colpa mia. Cosa? Calmi, calmi, calmi. Non è successo di me. Cioè, aspetta, Asfig. Aswig. Aswig. È il capo di questa gilda? No. Non c'entra niente. Ok, stavo cercando. Tu lo sei inventato completamente, non l'ho mai detto. Ripeti. Allora, apprendete dove si trova la tenuta di Aswig spalle lunghe, punto. E apprendete che la nave, cosiddetta martello di Aril, appartiene alla gilda mercantile dei Corrieri di Brina. Va bene. Come minimo si diranno, eh no, è stata rubata, ragazzi, non ne sapevamo niente. Vogliamo andare a casa di quel tizio prima di andare dai mercanti? Vai. Sì, sì, è quella. Cosa? E te ne immagini di quanto potremmo confonderci nel Minkai, se c'avevamo dei nani in gruppo. Di l'altro confondevamo loro. Nani? Nani? Nani. Che poi, a parte Jojo, io e dopo... No, va bene, basta, ragazzi, stiamo già divagando troppo. Non ho... Quindi andiamo da Aswig. Non mi piace così, ragazzi, non voglio. Cioè, non... Onestamente... Allora... Potete, oltre a questa realtà, potete fare anche delle prove, se avete intenzione, per scoprire un po' di più sul corvo che vi seguiva. Ma, ok, nel senso, in questo momento non... Cioè, non c'è... Scusi, ha visto un corvo strano che ci seguiva? Eh, non ce ne è presentata l'occasione. Stiamo seguendo un attimo. Cioè, in effetti, che genere... Cioè, come dovremmo fare a ottenere queste nuove informazioni? No, più che altro... Beh, ma, ragazzi, è una città di 70.000 abitanti. Potete... Si traduce nel... Tipo, magari andate nei centri in cui ci sono... Ciamani, il posto... Cosa di questo genere. Non posso anche capire, però, queste cose, secondo me, sono cose che tu dici... Ok, diciamo, ci perdiamo oggi sei ore, andiamo in quel posto e lo facciamo. Non che... Ma stiamo... Ci chiediamo della casa, già che ci siamo, chiediamo al primo tizio che passa, se sa qualcosa dei corpi. Sì, stiamo seguendo una pista, poi il resto ci penseremo dopo. Seguendo la pista, Stagilda dei Corrieri, è in città oppure... Sì, il quartier generale in realtà è fuori città, però chiaramente hanno anche... ...hanno anche delle... Sì, siete affiliate qua. Quindi, dunque, durante i vostri giri in città per chiedere informazioni, chiaramente chiedendo aiuto anche ai vostri compagni, Nel frattempo, Sandro, vi accenna che avrete anche bisogno di una guida per condurre la carovana al di là della corona del mondo. Qualcuna che ha già fatto quel tragitto, intende? Una guida. Una guida che effettivamente fa quello di lavoro. Beh, direi che è forse la gilda mercantile che ci ha attaccato, magari potrebbe saperne qualcosa. Ci penseremo, direi di metterlo un attimo da fare. Andiamo da Asvic per la prima cosa. Ok. Allora... Dunque, 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 dunque. Aspetta, ma io ho parlato ma non mi avete sentito, vero? No, esatto. Chiedevo, il quartiere della gilda dei Corrieri... Il quartier generale della gilda dei Corrieri potrebbe essere per strada o proprio da un'altra parte? No, non è per strada, non è per strada. Allora, la tenuta di Asvic si trova a due ore di cammino a sud-est della città, in un'area di boschi radi e colline paludose. Minchia, buco qua città. Sì. Ho capito. Va bene. Vabbè, ci andiamo, nel senso non ha... Beh, certo, sì. Arrivate al... Diciamo, al limitare delle sue terre che ormai è calato il sole. Ed è praticamente notte. Immagino faccia freschino. Sì, chiaro. È autunno inoltrato e soprattutto da queste parti praticamente il clima è prettamente invernale. Fa molto freddo già adesso. Adesso. Allora. Come molti avamposti in quest'area, la tenuta di Asvic è una casa fortificata di fango e pietre, dove il padrone e i suoi seguaci possono radunarsi per difendersi assieme dai pericoli delle terre selvagge. Ci sono varie capanne ed edifici periferici, dove costruire cavalcature, utenzi, animali. Questo è ciò che vedete e deducete dalla vostra posizione. Come si presenta la cosa? Sembra ben animata, c'è gente. Allora, avvicinandovi, progressivamente, notate un bel frastuono, un bel baccano che viene proprio dall'abitazione di Asvig. Un baccano tipo di festa o come si chiama. Sì, 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 di festa, di festa. No, bene, bene. Riconsiderando il discorso che quelli che ci hanno attaccato erano tipo marchiati, no? Questo lo faccio io, non l'ho fatta uno al discorso, perché non penso che sarebbe così meschino, anzi non lo sarebbe per niente. Potrebbe esserci la possibilità che si chiedessimo informazioni su perché ci hanno attaccato, muoiano? Cioè, magari, no, nel senso la mia domanda, la formula in modo corretto. Noi sappiamo se Asvig, tutto quello che siamo riusciti a scoprire chiedendo in giro di lui, no? Ha degli sciamani al suo servizio, è lui stesso uno sciamano, perché noi siamo venuti qua, ma... Voi non sapete niente su Asvig. Esatto. Allora, in gioco, ok, c'è Baccano, prima di... Guardo soprattutto Akira, prima di fare qualsiasi cosa come bussare alla loro porta o sfondare... No, 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 chiaramente, cioè... Cioè, voi avete motivo di credere che Asvig abbia interesse nel fermarvi in qualche modo, cioè, è ovvio. Quindi... Sì, stavo parlando in gioco, volevo... posso? Vai, vai, perfetto, però non ti dicevo. Che era chiaro, era ovvio. Dicevo, dobbiamo prendere in considerazione la possibilità che sia stato lui a marchiare coloro che ci hanno mandato ad attaccarci. Quindi potrebbe avere un potere che non... Magari non abbiamo idea... Preso in considerazione. Come confrontarlo, sì. Ci si confronta... Aspetta, penso a una soluzione... Lo prendo a pugni? Eh. Intendevo dire... Come te la cavi... In quanto a essere silenzioso? Akira? Silenzioso? Sì, sarebbe meglio fare un sopralluogo prima di andare lì e sfondare la porta e prenderli a pugni. Non sappiamo quanti sono e non sappiamo qual è il pericolo. Cioè, così tanto prestuono che pensi che pure tu, un'armatura completa, volessi avvicinarti senza essere sentito, ecco. Alla finestra, certo. E questo lo so anch'io. Sì, 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 ma dentro... Cioè, questa cosa qui la deciderete una volta che avrete visto, insomma, come la situazione è la più vicina. Non ha senso lasciarti la testa prima. Avviciniamoci e vediamo come la situazione. Infatti, la mia che tendo sempre a vuole pianificare. Andiamo avanti. Ma non è quello, è che non c'è niente da... Andiamo avanti, non c'è niente da pianificare, l'hai già detto, non ripetiamoci. Beh, come vi avvicinate alla capanna, notate un cerchio di corti pali di legno piantati nel terreno che circonda sia la tenuta che gli edifici periferici. I pali sono piantati a intervalli di 9 metri ciascuno ad una distanza di 18 metri dalla tenuta. Sono pali appuntiti, tipo, dentro le buche? Eh. Cosa c'è da capire? È un cerchio di pali che circonda la tenuta. Ma sono dritti verso l'alto? Sì, sono pali di legno piantati nel terreno. Sì, esatto, fine. Non c'è una palizzata, sì, solo che appunto sono distanti l'uno dall'altro. Come se volessero costruire una palizzata ma la palizzata non avanti. Esatto. Perfetto, non lo capire. Guardate. Potete guardarmi in giro. Guardate, questi qua vogliono proteggersi. È come se stessero aspettando qualcuno che gli attacchi. Molto strano, no? Ah, i pali sembrano nuovi? Sembrano appena piantati? No, è assolutamente strano. Hanno attaccato dei forestieri, hanno andato dei banditi, hanno derubato all'interno della città. Prima o poi qualcuno sarebbe venuto a cercarli, no? Io uso Detect Magic su una zona. Detect Magic sulla zona. Aura di evocazione, principalmente realtà convocazione moderata sui pali. Posso cercare di studiarli meglio? Conoscenze... No, allora, conoscenze arcane... Sapienza magica. Bel craft, che bello. Anzi, in realtà prima percezione. Questa prova te la conto, sì, questa prova te la conto, però a percezione potete anche prendere 20 volendo. Ah, ok. Prendo 20, no? Prendete 20, quanto avete in totale? 26. 22. Ta uno? Ma il mio è un hidden... 23. 23 totale a percezione? Prendo il 20, sì. Ok, diciamo che chi è al più alto fa la prova e gli altri aiutano. Ok. Quindi, praticamente iniziate a guardarvi in giro dopo la rivelazione di Aidan sulla magia. Qualcosa chiaramente non vi tornava. Prima di attraversare i pali, vi guardate cautamente in giro e notate i resti confusi di alcune rune tracciate di recente sul terreno e cancellate in tutta fretta. Con uno studio più accurato, Aidan riesce a ricreare la luna. Eh, sì, la luna. Che cazzo dico? La luna, sì. Sì. E come... Effettivamente come la ricrei, dove era stata disegnata, i pali... Vedi, vedi i pali che si... che sembra come se si scaricassero della propria magia. Una specie di lampo leggero. Secondo le tue conoscenze, insomma, teoricamente hai disattivato la trappola. Bene, dopo aver terminato di tracciare la runa, mi rialzo. Ok, ora dovrebbero essere sicuri. Era una trappola magica. Devo non proprio aver paura. Ben fatto, ben fatto. Ok. Che tipo di trappola magica era? Non ne sono sicuro. Beh... Ho deciso di disattivarla per essere certo che non facesse nulla di male. L'unica cosa che sai è che erano pali collegati ad una magia d'evocazione, chiaramente. Avrebbero potuto fulminarci o evocare... No, evocazione o evocazione? Evocazione! Avrebbero potuto evocare delle creature, per quanto ne so. Tutto questo sta prendendo una strana piega. Quindi qualcosa di più grande è semplice rubare una spada piuttosto che... mandarci addosso una piccola armata di banditi. Qui c'è qualcosa che sta manovrando tutto questo. Non è possibile che siano così protetti. Avanti andiamo, scopriremo sicuramente qualcosa. Avanziamo verso la casa. Verso la tenuta, insomma. Sì, perfetto. Allora... Avanziamo verso la tenuta, il rumore baccana della festa si fa sempre più forte. All'interno uomini bevono e fanno baldoria. E questo lo percepete chiaramente. Potete praticamente avvicinarvi fino alla casa in sé. Arrivate fino alle pareti senza problemi. Non vi è nessuno fuori. Non una guardia, un uomo, niente di niente. Strano che non ci sia nessuno in giro. A detta di... Non mi ricordo come si chiama. Qui ognuno ha una guardia, ricordate? Anche le guardie, hanno delle guardie. Bisogna verificare che non ci sia... Non ci sia qualcosa di invisibile. Speriamo proprio di no. Io comunque ogni tanto lo attivo in Detect Magic, visto l'esperienza precedente. Allora... Beh, fatemi una prova di percezione. Va bene. È sufficiente per farvi un'idea approssimativa del numero di persone all'interno, origliando alle porte. Sono... Sono circa... Potrebbero essere dalla quindicina alla ventina di uomini, ma chiaramente molti sono ubriachi e pensate che non siano in condizione di combattere nel caso dei rompeste. Allora, rifacciamo un recap un secondo. Cioè, è una casa? Non ci sono mura? Di nessun tipo? C'era quella palizzata magica. La palizzata magica, ok. Però adesso ci sono soltanto mura della casa. Sì, 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 sì. È un interno, letteralmente fuori dalla porta. Quanto è alta la casa? Allora, ti dico subito, la casa in sé è alta fino, diciamo, complesso del tetto di paglia, più o meno tre metri e mezzo al centro. E sulle pareti, chiaramente, che scende due metri e mezzo. Ok, quindi è una specie di... È una casa lunga. È una long house, ok. Sì, proprio precisa, identica. Ha due entrate, quindi? Una davanti e una dietro? Sono le entrate... Sono... Sì, una davanti e una dietro. Probabilmente anche... Ipotizzate anche dal fienile. Ci sia un'entrata. Perché è attaccata alla casa. Quindi in totale sarebbero tre entrate. Ok, allora facciamo... Adesso aspetta, li metto sulla mappa. Cavolo. Dov'è? Ok, intanto tu vai avanti. Allora, faccio così. Osservo le porte d'ingresso. Sono doppio battente? O un singolo battente? Allora, le porte d'ingresso sono di legno robusto ma prive di serratura. Ma non nemmeno le maniglie? No. Cioè, sono tipo le classiche porte che le apri sbattendole, ecco. Cazzo di barbari. Figa. Allora. Peccato perché volevo tipo barricarne una. Cioè, tipo sprangarla in qualche modo. L'unica cosa che ipotizzo è che possano essere sprangate dall'interno. Perché chiaramente un modo per bloccarle ci deve essere. Però dall'esterno non si può fare. Esatto. Beh, direi di fare il giro e trovare una finestra un po' isolata. No, passiamo dal fienile piuttosto. Dici? Beh, sì. Non penso sia. Se ci metti la mappa così... Eh, aspetta che c'è stato un problema e devo ritrovarlo. Ok. There was a problem. Scusate, per l'inconveniente è solo metta. Scusate, per l'inconveniente è solo metta. Comunque Andy, ascolta. Io non è che ti voglio bloccare la pianificazione. Ma se... Cioè, ti ho detto che... Praticamente... Ancora? Ma ti sto solo spiegando perché te la sei presa. Ma non ce n'è bisogno, non ce n'è bisogno. No, ma te la sei presa a caso, cioè... Dimmi, quando possiamo continuare, André? Sì, sto mettendo la mappa. Un attimo. Tre secondi... E ti dico subito. Allora. Che l'ho persa, siccome. Quindi devo riapploatarlo un attimo. E dai. Sto mettendo... Eccola qua. Questa è la mappa. Ok. Perfetto. Dunque possiamo continuare. Ok. Quindi questo è finire, immagino. Sì, esatto. E questo è un ingresso? Sì. E quest'altro è l'altro ingresso. Voi venite da qua, sì. Approssimatamente siamo. Sì. Ok, quindi facciamo un giro di qua. Ok. Qua. E qua. Ok, ok. Perfetto. Arrivate a quello che pensavate essere il finile. Quando... Quando realizzate che in realtà è una specie di distanza in cui viene tenuta la lana ricca di pecore. Probabilmente dalla quantità che vedete pensate che sia a scopo commerciale. Ecco. Lungo le pareti sono state accumulate numerose matasse di lana grezza, assieme a vari secchi d'acqua e di urina per ripulirla. Accanto alla porta che conduce alla sala principale è stato collocato un bancone con vari pettini per cardarla. Per? Cardarla. Cardarla. Ok, perfetto. Eh, ma vicino alla porta. Si avvicina alla porta, non è sbarrata e puoi volendo osservare all'interno un po' di soppiatta. Da che parte si apre? Si apre verso l'interno o anche l'esterno in realtà. Cioè non cambia... Ok, ma da che parte è il card? Qualcosa mi dice che è di qua, tipo. Cosa, scusami? Qualcosa mi dice che è questo il card. Ah, in quel senso, sì. Si apre così. Sì, quindi fa tipo... Esatto, così. Sì, fa così. Ok. Mi metto di qua e sbircio dentro. L'apro tipo mezzo centime. Ok. Bene, all'interno vi sono... Li riesce a contare. Vi sono 14 combattenti ulfeni nella sala principale. Tra cui, però... Tra quelli che riesci ad osservare, solo pochi effettivamente potrebbero essere in grado di combattere. Due sono palesemente ubriachi. Sei dormono. Di conseguenza, solo sei di quelli che vedi sarebbero in condizioni, ecco, di poter fronteggiarvi. Ma in generale sono, cioè, in armatura? Sì, sono tutti in armatura. Ah, hai capito. Di genere di feste fanno qui. Inoltre, oltre a questi combattenti, nella sala principale vi sono 5 servi che stanno portando il cibo un po' ovunque. Vengono bistrattati in quest'area, sì. Da o no? Dimmi, Akira, qual è la situazione? Allora, dentro ci sono... La maggior parte dei combattenti sono fuori. Sono ubriachi. Però la cosa che ci serve di fare è quella di prenderli un po' a tenaglia. Perché se entriamo tutti e due di qua non riusciamo a fare una giusta... Una giusta azione, secondo me. Allora... Vai dall'altra parte. Dove c'è l'ingresso principale. Apri lievemente la porta e aspetta il mio segnale. Non è sbarrata quella porta, scusate. Ma sono tutte aperte le porte, quanto capisco. Sì. E qual è la porta sbarrata? Non ci sono porte sbarrate. No, si diceva che potevano essere sbarrate probabilmente dall'interno. Solo dall'interno? Sì, sì. Annuisco. È più difficile che vogliano scappare dalla cucina. O dall'altra porta, in fondo di là. Io richiudo l'uscita e tu... Quando vedrai il segnale, il segnale gli butto un bracciale, uno dei loro bracciali dentro nella stanza. Senti una cosa, Akira. Sì. Prima di iniziare a spaccare tutte le teste, valutiamo anche la situazione. Ci introduciamo. L'obiettivo è sapere che dobbiamo combattere, chiaramente. Saremo comunque noi gli intrusi, quindi sarebbe strano che non ci affrontassero. Ma cerchiamo di far capire bene perché siamo qui e vediamo le loro intenzioni. Potrebbero non essere... Ostili? Non ostili, ma ho come il sospetto che non sia stato proprio il loro desiderio fare quello che hanno fatto. Cosa? Mandarci indosso 50 guerrieri? Sto dicendo solo che siamo stati seguiti da una cosa strana, un animale strano, particolare. Magari non è propriamente lui il nemico. Solo questo, dico. Se vediamo che non c'è dubbio alcuno... Il nostro nemico ha degli alleati. E gli alleati del nostro nemico sono... Potrebbero essere schiavi. In ogni caso non è l'unico problema. Potremmo dover stare in questa città a lungo. Se attaccassimo ora e qualche servo preso dalla paura ci denunciasse alle autorità... Ecco, qui le autorità funzionano in modo particolare, l'abbiamo capito, però... C'è stato richiesto di esigere una vendetta di sangue nella tradizione del Guidry Gildo. E vogliamo veramente metterci nelle mani di quel vecchio? La sua anima è pura. Anzi, la sua anima non è corrotta. Purtroppo non penso che la legge funzioni ad anime pure. Però la legge funziona anche qualcuno può esigere questo tributo. E attraverso due esigere... Non credo che avrebbe avuto interesse nel promuovere un'azione così meschina come il massacro di qualcuno. E poi abbiamo le prove... Abbiamo i bracciali con le ruone dell'euro. Questo è vero, assolutamente. Noi siamo venuti a esigere risposte. Do una pacca sulla spalla d'Akira e inizio ad avviare verso l'altra porta. Ok. Perfetto. Chiaramente loro continuano a far festa indisturbati e non sanno nemmeno la presenza. Allora, considera che io estrago direttamente la spada all'oscuro. Ok. Immagino che questa porta si apra sempre verso destra. Cioè, ci avrebbe poco senso che si apra nel verso... Sì, sì, vabbè, sì, sì. Esatto. Cioè, da sinistra a destra. Quindi, con il braccio, con la katana, con la wakizashi, spingo un po', osservo... Che poi, però, Akira, se guardi bene la situazione, io per vedere te devo proprio spalancarla alla volta. Infatti lancio il bracciale, lo lancio qua in mezzo. Ah, ok. Tu lanci il bracciale come segnale, ok. No, perché non avevamo ben definito il segnale. No, no, te l'ho detto. Lancerò il bracciale nelle stanze. Ok. Comunque, ecco, mi metto in modo che quando spalanco, c'ho davanti l'oscuro e sto in... Come azione preparata, quando arriva il coso, apro la porta e posizione difensiva totale, insomma. Ok, ok. Va bene, faccio... Apro. Aspetta, aspetta, io prima che lui lo faccia, gli metto tipo il mano sulla spalla. Desideri prima un qualche tipo di potenziamento? Non lo so. Adesso che mi ci fai pensare. Nel frattempo io mi casto a scudo. Ok, armatura magica, no? Ce l'hai? No, l'armatura magica non mi serve. Ok. Allora, mi lancio... Mi lancio alther self. Ok. Perfetto. Mi metto al basso. Alther self. Vedi... Vedi Akira che ad un tratto diventa più... Più demoniaco del solito, più forzuto. I suoi muscoli di colpo si ingrossano. I suoi capelli si fanno più spigolosi, più duri, come se potessero tagliarti passandoci una mano sopra. La sua espressione più ferale e feroce. È la prima volta che lo fa? In realtà no, però tutte le volte che lo ha fatto era in combattimento ed era... Insomma, la frenesia del combattimento non ti aveva mai permesso di osservarlo bene. Che diavolo odio quella forma. Anch'io. Apro. Anzi, mi tolgo la maschera da demone in modo che mi possano vedere in faccia. Apro la porta e butto il bracciale qua. Perfetto. Alcuni degli leufeni all'interno iniziano a guardarsi in giro per capire dove sia arrivato questo bracciale. Beh, prima che possano fare qualcosa io se posso agire... Sì, sì, ma chiaro, ma anche perché comunque ci sta magari qualcuno lanciato a caso nella festa. Comunque sia il tasto forza del toro su Akira. Ok. Vedendo il segnale apro la porta e mi metto lì davanti con lo scudo. Perfetto. Allora. Metto, scusatemi, finisco. Ok. Dunque. Il bracciale parte. È un secondo. Forza del toro viene lanciata. La porta viene aperta da Tauno che si mette di fronte con lo scudo per bloccare i combattenti. Notate lo stupore nei loro occhi. Soprattutto di chi non è tanto in sé, di chi è un po' alticcio. Non sembrano capire bene cosa stia accadendo. E avete tempo per agire. Questi qua che hanno l'orologino sono quelli che dormono, giusto? Sì, stanno dormendo. Mentre quelli col cuore sono quelli ubriachi. E gli altri sono quelli in salute. Sì. Ok. Iniziativa? Nessuno di loro comunque chiaramente ha l'arma sguainata. Entro. Sì, intanto tiratemi l'iniziativa. Prima facciamo il turno di sorpresa, il round di sorpresa. E poi... Allora... Bene. Tauno, 16. Aide, 18. Akira, 6. Ok, perfetto. Intanto turno al turno di sorpresa. Disposta di... No, se hai il round di sorpresa... Allora, prima di entrare ho tirato... Martial Flexibility mi sono messo da answering display. Ok. Entra. Sì, perfetto. Insomma, tu tauno rimane lì sulla porta? Sì, senti una cosa. Allora, dato che... Quello lì del... Dall'attirare il taunto, vabbè, insomma... È movimento e la difesa totale invece è standard... Cerco di individuare quello che potrebbe essere il più... Pericoloso tra questi vicini. Beh... Per non farlo accerchiare e attirarlo verso di me. In realtà... Magari... Quello più sveglia davanti a te potrebbe essere questo, questo... Sicuramente... I due davanti a te, ecco. Allora, lo faccio su questo. Ok. Perfetto, però dopo in realtà... Cioè, quando... Sì, sì, era per dire... Sì, perfetto. Allora, mi metto dove sono e parlo. Allora. Schifosi e brevi, sì. Ah. Sì, sì. Vabbè, sono tipo con le armi inguainate... Cioè, non mi metto a fare un massacro al cazzo, cioè... Ok, tutto. Non sono mostri, alla fine. Ok. Mettiamo subito le cose in chiaro. Noi siamo qui per esigere una vendetta di sangue. Ma questo non vuol dire che... Chiunque sia qui, in questo momento, debba essere il pagamento. Quindi vi consiglio di prendere le vostre spade del cazzo e andare... Mentre stai parlando, vedi che... Praticamente tutti stanno iniziando a squainare le proprie armi. Mmh. Ok. Ah, non give a fuck. Tocca a... Tocca ad Aidan, in realtà, adesso. Ok. Beh, non appena vedo che mentre mio fratello sta parlando, i tizi sguainano le spade, il primo che vedo che ha sguinato la spada, gli spada un raggio rovente in faccia. In realtà, nessuno ancora sta sgu... Cioè, stanno sguainando, però... Va bene, dai, mettiamola così. Allora, preparo l'azione. Il primo che vedo che sguainano la spada, si becca un raggio rovente in faccia. Ma... La stanno già sguainando, meccanicamente non ce l'hanno ancora in mano, ma te la puoi lanciare lo stesso. Cioè, non è che stanno prendendo il porto suogli per pagare. Sì, è quello che ho detto, scusa. Se appena la stanno sguainando, dici... Nessuno lo sta sguainando. No, tu hai detto appena l'hanno sguainata. Eh, vabbè, va bene, dai. Allora... Lancia il raggio rovente in faccia. Ok. È il fiotto acido o il raggio rovente? No, il raggio rovente con la bacchetta. Ah! Ranget, ok. Che merda. No, mancato. Ok. Va a cozzare contro il muro dietro. Tauno. Ok, io guardo quello davanti a me. Non devo evitare che se la prenda direttamente con Aiden o con Akira. Ripeto la frase del servitore. Il leone dovrà pagare il suo debito, no? Lo guardo e faccio. Il leone dovrà pagare il suo debito. E lo punto con la spada. Madonna. È stato totale. È cagato tosse. E colazzo... Vabbè, posso fare anche i cinque... Cinque fit, no? Ok. Eh, sì. Puoi farle. Perfetto. Nella stanza, nella casa di Asfik, si scatena il putiferio. La musica viene soppressa dalle grida dei servi spaventati che cercano rifugio sotto i tavoli, sotto le panche. Dalle grida di battaglia dei combattenti ulfeni che si lanciano contro di voi alla carica. Dal fuoco che colpisce le pareti. Anche. Tauno. Colui che è provocato si getta chiaramente su di te. Provando un affondo con la spada. Che ha squainato. Quanto hai di CA? 26, amore. 26, niente. Blocchi il colpo con lo scudo senza problemi. Gli altri combattenti stanno ancora squainando le proprie armi. Akira. Me l'ho detto. Io sono tranquillissimo, come se la cosa non stesse neanche succedendo. Questo ancora quindi non è armato, giusto? La stas praticamente squainando, cioè... Ma non conta come armato. No, non conta come armato meccanicamente, però... Perfetto. Quello volevo sapere. Sì. Metto qua. Qua. Perfetto. Spostati, vai. Ok. Ho detto... Che chiunque... Non vorrà essere trattato come una moneta di sangue. Adesso potrà ammollare la loro spada. La propria spada. E andarsene. Altrimenti morirà. Qui e ora. Dazzo ma sembra cedere alle sue. Dazzo in display. L'ho preso a posto adesso. Ma smetti di fare tiri del cazzo stasera, per favore. Però... Beh... Allora la DC sarebbe 10 più wisdom, mi pare. No. Più livelli più wisdom. E da di vita più wisdom. Da di vita più wisdom. Da di vita... Eh... Sì. Allora... Vedi... Entro a due metri, vero? Quindi tutta la casa. No. Tutta no. Sì, tutto. Praticamente. Quelli addormentati no. Sì, quelli addormentati no, ma tanto non mi sento. Sì, esatto. Per ore. Praticamente tutti quelli che sono di fronte a te, in piedi, Akira, davanti a te, dietro di te, chiunque inizi a darsela a gambe levate. Anche perché in questo momento ho la voce tipo... Mutata. Demonica, sì. Ah no, era 10 più... 10 più di dice wisdom. Sì. Tanto wisdom, ma non meno uno, quindi... Comunque, a parte questo, alcuni chiaramente scappano a gambe levate, mentre altri si ritirano più orgogliosamente, però il risultato è che tutti, dal primo al ultimo, quelli che possono sentirti, scappano. Aidan. Va bene, allora se stanno scappando, direi che tipo mi allontano dalla porta per facilitare la fuga, tanto se non siamo qua per compiere un massacro. Non ha senso bruciarli vivi. Bene. Faccio anch'io un passo di lato. Ok. That's in display, aspetta. Te sono shaken? Cioè, non è che gli fa scappare panic. Cazzo, cazzo, cazzo. No, scusami. Pensavo fosse una fuffa. Sì, no, no, perché mi sono un attimo confuso con l'altra cosa di Intimidate, però vabbè, non è successo niente, semplicemente... Ok, cioè era per mettere uno due. Uno che deve rientrare, allora. No, è il servitore, quello là, sti cazzo. No, scusatemi ragazzi, mi sono confuso, succede. Semplicemente... Semplicemente si fanno indietro. Come dicevo... Va nel fuoco uno. Si fanno indietro e sono spaventati dal... Sì, sì, sono solamente scagati sotto. Esatto. Questa era qui, eh. Ok. Hanno squainato le proprie armi e stanno... E stanno, diciamo, sulla... In guardia, sulla difensiva. Stanno aspettando che voi facciate una mossa. Chiaramente Akira li ha spaventati per bene. Sono demoralizzato, sono shaken fino al mio prossimo round. Ok. Fino alla fine. Nel frattempo però si avvicinano a te cautamente, diciamo, per circondarti. Ok. Perfetto. Allora. Allora. Intanto comunque tocca a te. A me? Adesso. Sì, è tocca a te. Ok. Allora, prima sono entrato in Dragon Style. Adesso sono entrato in Bore Style. Com'è che tocca a lui, scusa? Eh, non so. Ho fatto sei, non so perché tocca a lui. Cioè, nel senso, lui ha appena fatto quella mossa lì e poi è toccata a loro e poi tocca ancora a lui. Dovrebbe toccare, tipo, ad Aidan? Immagino. Ma, eh... Io sono l'ultimo. Eh, sì, stocca a te. Hanno agito adesso i combattenti, tocca a te adesso. A me? A me. No, perché a te? Perché io ho fatto... Perché se lui ha agito, ha agito. Ma perché io pensavo che... Eh, perché noi abbiamo detto, facciamo il passo. Sì, 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 tocca a te. Tocca a te, Aidan, tocca a te. Ok. Allora, visto che questi mi hanno fatto il favore di... di mettersi tutti vicini, ti do Glitter Dust qui. Ci rientrano praticamente tutti... tutti questi. Sì, ma è una propagazione del raggio di 10 metri. Ok. Tutti in questo quadrato. Servitore compreso. Ok. Tiro salvezza è 16. Perfetto. Allora. Pam, esplosione di luce, polvere colorata, cieca tutti. Tutto questo, praticamente? Eh, se vuoi controllo quant'è la propagazione del raggio di 10 piedi, ma penso il quadrato 4x4. Sì, allora, bass. Forte tranne gli estremi, tipo in alto a destra e così via. Allora... Eh... Lo passano. Lo passano praticamente tutti. Tranne... Questa. Utile, utile. Questa. Comunque questo e questo non lo subiscono, credo, in realtà. Questi sono gli estremi. Ok. Eh, su... Su tempera, giusto? No, volontà. Ah, volontà. Allora, anche questa. E anche questa. Bene. Ti scrivo la condizione? Sì. Blinded. Perfetto. Perfetto. Ok. Tauno. Aspetta un attimo. Praticamente i combattenti ulfeni gridano dal dolore quando si palesa questa... Io me l'immagino come un'esplosione, una polvere che esplode improvvisamente dal mezzo, dal centro della propagazione. E li ricopre tutti, accecandoli. Iniziano ad urlare dal dolore. Ah, i miei occhi! Non ci vedo! Sono cieco! Ah! Tauno! Io cerco di affondare la lama su questo che mi ha attaccato. Ok. Chiaramente. Eh, sì, eh, beh, niente. Allora. Ah, chi era... ci ha? Arriva? Eh, 19? No, aspetta, aspetta, aspetta. Questa non c'è più. Ma sì, tanto, sono pieni di malus. Beh, si avvicina uno... uno sveglio. Beh, sveglio, però... 19, allora? È shaken. Oh, 19? Doveva essere 20. 20? Comunque ti ha preso lo stesso, quindi... Sono otto danni. si avvicina a te con l'ascia squainata e ti colpisce al tradimento mentre non eravivi la guardia abbassata intaccando l'armatura. allo stesso tempo. Il... Praticamente... Questo, ecco, si avvicina a te. Lo stai... Lo stavi osservando. Riesci a parare il colpo senza problemi col tuo... col tuo guanto scudo. Tao, no? Tao, no? Pare il colpo del... del combattente di fronte a te. Ok. Al... Al tuo fianco, Akira, una... un guerriero ulfeno salta sulla panca e si avvicina a te in tutta velocità cercando di affondare la sua lama dall'alto. Fortunatamente, però, fa in tempo ad abbassarti e ad evitare il colpo. Ok. Aidan. Ok. Eh... Ma spero. Cosa? L'hanno agito... Ah, scusami, Akira, Akira. Eh, sì, sì, sì. Sì, è infatti. Allora, qua si sta mettendo un po' di merda. Faccio un passo di metro e mezzo qua. E salgo sul tavolo. Quindi... Quelli che stanno dormendo in realtà potresti fare un colpo di grazia. No, no. Sarebbe veramente prendere la key per niente. Malvagio, sì. Faccio... un flurry. Su questo. Ok. Allora, ho acceso Bore Style e Dragon Style, ok? Ok. Cazzo. Cazzo. Beh, eh... direi che l'hai smontato. Sostanzialmente cosa fai? Dalla posizione in cui è, risalti con uno scatto veloce sulla panca e poi ti butti letteralmente sopra il nemico che è di fronte con... con gli artigli e gli... gli strappi la giugolare dal collo buttandola a terra la sua ferita zampilla di sangue ti schizza tutto addosso schizza addosso ai suoi compagni fino a quando non cade inerme i zampi Sì, anche perché gli ha fatto slashing damage quindi proprio... Sì, sì, sì. L'hai strappata completamente dal collo. Martigliata, sì, sì. Mi giro verso l'altro e l'altro è chiaramente è chiaramente barcollante non in sé ubariaco oltre ad essere accecato. Ok. Perfetto. 13 danni. Praticamente provi a colpirlo con... con un calcio. Lo... lo prendi in pieno petto sullo sterno buttandolo quasi sul bracere fortunatamente però riesce a tenersi ai bordi per non cadere nel fuoco e venire inghiottito. Ok. Ehm... Aidan. Ok. Ehm... mi sposto qui e uso il... uno di Gini di Gini di Gini perfetto insolito e... riprovo con la bacchetta. Ha col... è mancato vabbè comunque volevo colpire questo. È accecato porca d'altro. Ah già. È pure accecato quindi lo prendo rischio veramente di prenderlo. No lo prendi? Sì. Sì lo prendi lo prendi. Chiaramente lo prendi. Ok. In tal caso sono 4 di 6. Tiro io no? Sì. 4 di 6. Bene. 12. Perfetto. Media. Sì. Il combattante lo feno che colpisci viene... viene investito da questa... da questo calore improvviso tanto doloroso che inizia ad urlare. Era già accecato. Praticamente infierisci su di lui. Tau no? Io provo di nuovo a colpirlo. Cioè mi concentro su questo. Se non lo colpisco poi faccio un movimento. Ok. André. Sì. Prima hai contato che aveva meno 2 per tiro per colpire che era shaken. Quello che mi ha colpito. Sì 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 ma lo superava tranquillo. cioè era aveva fatto tipo... Non sono più shaken adesso. Ok. Vedendo che comunque non... non riesco a colpirlo è che verso Akira iniziano ad arrivare troppe persone. io posso io posso fare tutto il movimento sono 6 metri quindi 20 piedi posso arrivare qua. Beh quello che hai visto è che gli ha strappato la gola a un tizio. Sì però a uno sono comunque tanti quelli. secondo me potresti metterti tipo qua per poi accerchiarlo dopo. Sì. Ok. Ma addirittura lì eh. addirittura qui per poter attaccare questo. Sì perché ... che non sprecare attacchi vi vediamo. Eh sì 10 feet ok perfetto il combattente deve fare l'attacco d'opportunità si è combattuto l'attacco d'opportunità 23 contro Yota niente non ti prende però in compenso ti insegue Tau no ti insegue e questa volta ti prende aspetta che fa devi fare ancora l'attacco Tau l'ho già fatto l'ho già fatto prima ah ok ah hai attaccato Tau 8 danni praticamente cosa succede tu ti sposti non curante non curante dell'unico che è davanti per andare a soccorrere Akira quest'ultimo ti insegue e ti colpisce dietro sull'armatura l'armatura è resistente però è pur sempre fatta di eh è pur sempre fatta di di tela insomma di di legno di bastoncini di non è chiaramente adatta resistere ad armi occidentali di conseguenza il colpo lo senti tutto sono 8 danni ok allora Akira il combattente che si trovava sulla panca ti salta addosso sono 5 danni mannaggia lui eh sto facendo faville questo si sposta qua è un attacco d'opportunità cinque danni ha detto se questo hocianato con opportunità su questo se questo è quello perché non vedo più la finestra la delle condizioni delle ferite non ci dovrebbe essere un paragrafetto che dice i vari livelli di pf ah ok aspetta aspetta forse diventando le impostazioni e riattivarlo perfetto Akira praticamente ti passa davanti cercando un ingresso per colpirti quando tu riesci riesci a danneggiarlo prima che possa farlo lui con una con un'artigliata proprio ad afferrarci di nuovo il collo sfortunatamente per te però non riesci a strappargli quindi è ancora in vita ok questi altri vagano alla cieca letteralmente e questi si sono svegliati ma saranno ubriachi anche loro si sono ubriachi sono ubriachi intanto aspetta aspetta un secondo allora perfetto perfetto e poi praticamente tocca a te Aidan vai aspetta mi sa che tocca a me scusa ma ogni volta mi scordo tocca a te ok passo di metro e mezzo cammino agilmente sopra la panca ok ah che peccato non mi da non mi da flanking vabbè tanto c'ho più due per liar grounds in questo momento ok ok flurry first attack quindi faccio il primo attacco su questo qua che è ubriachi perfetto per spezzare la condizione di flanking a town ok buono si lo uccidi con un colpo solo il tuo modo soverandi è sempre lo stesso stavolta però piuttosto che strappargli la giocolare infili una all'interno dello sterno pieghi una costola e la infili dentro il cuore questa poi attacchi l'altro che era ancora vivo immagino ok preso morto praticamente praticamente dopo aver strappato la costola averla infiata nel cuore del tuo amico la strappi dal suo corpo e la infili nel collo di quest'altro entrambi cadono a terra chiaramente esanime un fiotto di sangue scorca ovunque su di te Akira su di te Tauro e qualcosa raggiunge anche te Aiden bene Aiden ok mi sposto qui con un passo tattico e faccio unto in queste o due per due così almeno quelli accecati non hanno proprio la possibilità e questo qui magari cade ma se tipo se tipo fai unto qua che prende fuoco non prende fuoco non prende fuoco no cosa l'hanno retconnato no era in 3.0 che prendeva fuoco ma io mi ricordavo aspetta in realtà oggi stavo guardando per qualche ragione dei vecchi post sul gruppo di Pathfinder infatti ho detto che che appunto non potevano essere uniti diciamo unto e che ne so scintille e stronzate del genere peccato peccato beh allora lo fai qua no no lo faccio qua in questi quattro se almeno le goachie hanno eventuali attacchi a quel fianco e comunque questi sono ubriachi e peccati e magari ci cadono cd 15 bene cadono tutti crea una pozzangra unta sugnosa sotto i loro piedi e tutti scivolano per terra sbattendo il culo ma l'avevi fatto qua quindi questa no ok solo due non capisco si sono due ok quindi questi no perfetto prima che possiate fare fare altri praticamente quasi istantaneamente subito dopo che che Aidan ha ha lanciato l'incantesimo un individuo ben diverso dagli altri esce dalla porta sistemandosi i pantaloni guardandosi intorno che diavolo sta succedendo qua per tutti gli dèi e vedi sui uomini accecati che scivolano nell'olio si praticamente come sta per finire la frase si blocca quasi gelato da dalla visione che sta che sta osservando è chiaramente ubriaco comunque ok praticamente si guarda in giro e squaina la spada ok ok mentre allora tauna tauna il guerriero tra di te prova ad attaccarti nuovamente ma chiaramente questa volta sei pronto con lo scudo lascia bloccare il suo colpo adesso non attaccavo prima io si io uso vedendo arrivare il tizio lì uso fervor e con l'uso di fervor lancio resistenza dell'orso lo lancio veloce come se fosse quicknand ok perfetto e poi attacco il tipo veloce cioè voglio toglierlo il tizio velocemente vai attaccalo ah bene bene ok 12 danni il nemico le incassa praticamente superi la sua la sua guardia vecco serie direttamente con con l'armatura con il gioco di maglia lo incrini leggermente riuscendo riuscendo a penetrare con con l'arma quasi leggermente all'interno della carne qualche anello del gioco si si incastra nella pelle e l'uomo urla di dolore prova ad attaccarti ma fallisce il tuo il tuo scudo è lì presente a salvo a guardarti l'ubriaco dietro di akira si alza improvvisamente e prova un attacco sorpresa eri distratto akira non l'avevi notato pensavi che stesse ancora dormendo e sono sette danni ammazzalo lo lascia in vita e ci gioca qua stiamo andando molto giù ad hp dovete mandare giù loro sono 26 su 46 la cosa sta cominciando a diventare preoccupante ma no è solo entrato il boss nella stanza che va che sia infatti ma che boss è un credimento peccato c'è una tipo con un fuoco verde in mano dietro infatti mi metto e preparo le azioni fin quando non finisce gli incantesimi cosa fa aspetta è molto carina lei comunque e questa non so che fine fa peccato danni non letali e poi anche ma non la stai uccidendo in maniera granguino lenta come tutti gli altri perché ho altri perché dopo devi interrogarla no ho altri piani per lei beh comunque dunque scusatemi si è vicina no si è vicina a qua a tauno e prova a colperti lo vedi che è chiaramente ubriaco 19 aspetta un po' no niente non ti prende quant'è di cia aiden? io ho 20 20 sono 7 danni ok tauno ti sciamano letteralmente addosso a tutti i combattenti della stanza riesci a parare i colpi con lo scudo con la wakizashi ok akira ignorando quello che mi ha appena colpito no è con la cola dell'occhio ho notato che il tuo fratello è stato colpito la sua la sua armatura ha atturito il colpo però sembra approvato non di caso eh non ci posso arrivare no te lo dicevo e basta nel senso ok lasciatelo stare figli di puttana salto faccio un passo di un metro e mezzo e flarro aspetta ma qui c'è ancora ah ok è morto gli sono saltato sul sul cadavere in maniera brutale lo pesti senza senza riguardo rosso 17 porco dio è morto il primo quel primo attacco il primo purtroppo purtroppo no ok allora faccio altri e adesso descrivi questo sei saltato sul cadavere violentemente il sangue da terra è schizzato con entrambe le mani hai affondato gli artigli nel torace del nemico che hai davanti lo hai letteralmente aperto chiaramente non c'è bisogno di dire che quest'ultimo è appena caduto a terra esanime bene Idan nessun problema passo indietro e prova a tirare qui il d20 2 ma io non lo so vabbè comunque e niente uso color spray e provo a fare entrare solo questi in l'area d'effetto quali? i due che ho davanti a me che mi hanno saccato ok color spray a cd15 volontà negare uno ha fatto uno ho fatto due di data bene sono stortiti dipende quanti hd hanno si 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 mi dici l'effetto preciso mandami il cos due o meno sono unconscious blinded e stunned tre o quattro sono blinded e stunned cinque o più sono stunned bene sono praticamente ti fai un balzo indietro molto agile dalla tua mano a parte un fiotto colorato di mille colori diversi che le investe completamente è verde come la natura ok è verde è un fiotto completamente verde come come la cortina magica si abbassa li veri entrambi a terra ok per due di quattro round di tiro due di quattro round nice nice ok quelli sono fuori combattimento aspetta 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 perché successivamente sono blinded e stunned per ma tante le uccidete prima dai no ma che per farti capire e poi a stunned per un altro round totale 12 round lo sappiamo che color spray a livelli bassi è fortissimo ok ok nel frattempo però notate colui che pensate chiaramente essere asfig saltare su una cassa prenderti mira a itan con la lancia e provare un attacco cazzo quanto hai dca sempre io come ho fatto con la lancia la tirata è la lanciata sempre 20 20 bene preso sei fortunato che non conferma sono 8 danni praticamente tutti voi osservate la scena alquanto spettacolare asfig salta sulla cassa prende prende la mira e lancia la sua la sua lancia contro contro aidan non la vedete nemmeno passare a un siblio quasi impercettibile e va a finire va a cozzare l'armatura di aidan fortunatamente la protezione magica questa veste di desna ha impedito il peggio ma spivey non è con noi no prossima volta si non ho capito no non è con noi spivey ah no siete andati da sole si si grazie perfetto dalla stanza esce anche una donna dai capelli fiammanti rossi come il fuoco porta una veste adornata di pellicce rossa anch'essa con una gonna una sottana nera notate che si lancia una magia addosso aidan tu la riconosci istantaneamente come armatura magica ok ok tauno allora io uso il mio movimento per individuare le aure malvagie perfetto verso gli altri c'è il capo e la tipa che è uscita aure malvagie allora basta solo vedere se sono malvagie o meno i combattenti non sono malvagi asfig e la la tipa si sono chiaramente malvagie la loro aura comunque non è potente no vabbè ma tanto non lo potevo vedere solo con in realtà si il paladino col move action fa tutto si si funziona come indire se non è male il paladino non sono potenti questi sono malvagi perfetto questi no e consumo un altro fervor per curare uno di sei a cosa che ha detto hai preso tanti danni non hai detto si me li cuori tu le cuori io le lancia da uno da uno ci sei si non ci avevo non stavo parlando no non so se aggiungo il livello aspetta ci guardo no solo tre danni wow è lo stesso che se avessi fatto in posizione delle mani eh vabbè infatti per quello che sarebbe la bacchetta in realtà è che purtroppo per fare l'altra cosa per casta cura ferite devo cosa non ce l'ho preparato non ce l'ho preparato per castarlo uguale però funziona solo su di me in quel caso o così o su di me basta ok bene i combattenti i combattenti di fronte a tetta provano provano un colpo combinato a cercare di di sfondare la tua la tua barriera ed effettivamente uno di uno di loro ci riesce sono nove danni no scusami 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 sono sei danni ok quanto sono blind da quelli la stavo giusto per guardare aspetta a livello round dovrebbe verifico sperarsi akira un guerriero più un pesato di te ma riesce a parare il colpo ok ok akira tocca a te quanti ne spa ne sono usciti altre due da questa porta dalla porta della cucina la donna sembra sembra imprecare in giro a dirigere gli uomini asfig fa lo stesso sta lanciando una serie di imprecazione mentre squaina la sua ascia allora faccio un passo di metro e mezzo qua ok il primo attacco uccide lo uccide il primo attacco praticamente ti sposti velocemente il guerriero che ti ha attaccato un attimo prima si trova uno dei tuerti gli conficcato nella gamba lo butti per terra sulla panca e con l'altro mentre praticamente mentre è straiato gli strappi la giugolare poi ti giri verso l'altro e provi un colpo simile riesci a pararsi almeno in parte no aspetta era già ferito allora praticamente lui prova a pararsi però tu tu superi le sue barriere gli togli la spada e gli strappi la gola no perché ho fatto uno e quindi l'ho messo in base ah cazzo hai ragione scusami ma effettivamente sono un attimo ritardato a me va bene se lo ammazzi lo stesso però ok no niente praticamente provo a colpirlo lui le sue difese e le tente e noble penetri item ok io mi sposto qui colpo di grazia no ma tanto sono cioè quelli lì per 12 round sono lì hai ragione hai ragione ok mi metto qui e preparo un'azione se lei casta un incantesimo le lancio un raggio 20 aspetta posso tirare tipo il d20 quello per la mia abilità come si chiama aspetta controllo beh si tu lo puoi preparare e tenerlo per il prossimo tiro che fai no ah si fino a ok aspetta devo rileggere le mie abilità però perché si prima del tuo prossimo turno ok allora tiro il d20 ok almeno e se lei comunque casta un incantesimo da quel 18 per spararle in faccia un raggio 20 ok ok allora 18 no scusami non si 18 presa no ma per preparare l'azione per preparare l'azione solo se lancia un incantesimo ok se lei lancia un incantesimo depurano un raggio 20 di rapese si si a me no tocca tastic prima ok 16 allora si avvicina qua con un balzo e ti lancia lascia ah i danni ma sarai un picoglioni mi si augura degli incrementi di gittata sto stronzo cinque danni e che cazzo è il lanciatore di merda sto qua cinque danni tre quattro cinque ok la donna praticamente inizia a sbraitare con le mani allora a sbraitare con le mani si parla dalle mani a sbraitare si sbraita con le mani si sbraccia si sbraccia sbraitare si sbraitare è vero hai ragione stasera Andre non è connesso non è connesso all'italiano e alle regole avrà fumato prima dei giochi no no non ho fumato semplicemente non lo so magari sono stanco tutto qua ok mi fai Akira si mi fai un tiro salvezza su volontà no prima deve sparare lui non sono connesso veramente 4 di 6 aspetta 4 di 6 brucia puttana e ora voglio vedere il tiro di concentrazione fammi sto tiro concentrazione stronzo cazzo cazzo gli hai fatto male praticamente vedete che inizia a muovere le mani gesti tipici insomma che sta per lanciare un incantesimo quando viene investita dal raggio rovante di Aidan le sue vesti sul colpo di sul punto di impatto iniziano a bruciare lei urla come una dannata come una pazza inizia a a sbilanciarsi a barcollare e chiaramente non non riesce a lanciare l'incantesimo vedete che vedete che una una luce bluastra parte dalle sue mani e poi scompare improvvisamente Aswig inizia a bestemmiare e imprecarti contro bastardo cazzone di merda come ti permetti ti distruggo ti spacco la testa e poi bevo dal tuo teschio ciucciami il cazzo che è questo Aswig tra l'altro è ubriaco quindi c'è Akira che non ce la fa si butta per terra sei serio aspetta tanto per passare qui deve passare nella minaccia di Akira quindi voglio proprio vederlo vieni vieni hai finito le armi da tirare si tra l'altro non ha più armi in mano perché è un coglione ubriaco che ha lanciato le sue però l'hai tirato bene il destrozzo eh tauno si no ok allora io mi sposto qua cioè salgo qui sul costo sul tavolo mi sposto qua davanti a lui e gli faccio una smite ok c'è un attacco d'opportunità dei tre di lì sì tre di venti nessuno di essi riesce a colpirti praticamente tutto in un curante disposti loro colpiscono cozzano contro l'armatura semplicemente ponte sulla panca alzi la wakizashi al cielo una luce divina penetra dalla paglia sul soffitto infondendo la tua spada con con un'energia dirompente fiammante completamente completamente accecante per per chi non è pronto per la luce di Shizuru fai l'attacco swish quindi livello all'attacco e ai danni tu vi sa allora ah no carisma all'attacco e ai danni mi pare fosse carisma all'attacco e da dovete ai danni mi pare no qui c'è scritto ah si si l'attacco quindi aspetta vabbè intanto tiro il colpo normale poi lo proviamo a calcoli vai dai speriamo che ti fai un critico fantastico e lo uccidi ah buono però dai buono quindi allora vabbè l'attacco l'hai preso ai danni aggiungi 4 quindi 14 danni non è male non è per niente male e aspetta perchè è più forte del del consul c'ho anche un bonus alla difesa prossimi gli attacchi da questo ok eh prendo bonus di deflezione deviazione scusa uguale a carisma quindi praticamente poco contro gli attacchi fatti da questo quanto hai a carisma? ma c'è riguardo mi pare poco aspetta ma non si passa su saggezza scusami no ma c'è scritto carisma ah ehm sì c'è scritto carisma non ce l'ho il bonus cosa non c'è è strano ma non è strano così c'è scritto sì è vero carisma comunque comunque gli è fatto gli è fatto abbastanza male ok comunque questa questa cosa dello smite funziona finché non finché non non muore lui oppure fino a che non vado a recuperare gli spell togli l'accecato ai tizi là in zona glitter dust sì allora Akira Akira provano ad avvicinarsi a te scusami si avvicinano a te provando provando a colpirti ma riesci ad evitare ogni colpo senza problemi ok dunque questo tolto Tauno diventi il guerriero orfeno della sua vita Tauno si sposta sul cadavere del suo compare non curante evidentemente e prova ad attaccarti uscire dall'olio causa tipo tiro salvezza per non scivolare ah lui era lui era sull'olio pensavano ci fosse allora sì mi pare che perché lui comunque si muove quindi allora niente scivola praticamente prova a spostarsi però scivola e cade a terra bene sta a me sì ok flarro di nuovo perfetto parto su questo parto su sì lo ammazzo col primo sì lo ammazzo sul primo e poi c'era quest'altro che era ferito e lo pò uccidere perfetto perfetto almeno io non ho poi una rottura di palle praticamente praticamente sei sei in mezzo a loro due metti le mani a 180 gradi le braccia a 180 gradi con una spinta molto forte dei bicipiti dei pettorali e prendi le gole di entrambi le strappi ma prima che possano strapparsi completamente spatti le teste di entrambi insieme poi incroci le braccia strappando la gola io devo prendere i goli finish per fare sta roba per forza praticamente hai sfruttato la la forza delle la leva insomma delle due teste per strappare le gole ok sta a ai ok prima di tutto un chiarimento gli alleati non forniscono copertura di nemici vero no no dovrebbero essere adiacenti in ogni caso va bene allora preparo la stessa azione di prima se cassa bacchettata infatti tiro il d20 per la doppia sicurezza ok userò il tiro normale ok ok perfetto c'è il rindente è quanto questa casa è un lago di sangue si si è completamente pieno di sangue tutta la casa sangue polvere luminosa e olio ah e anche vernice verde c'è una domanda ma il corvo che si vede sull'immagine della tizia c'è anche in gioco si c'è giusto per la considerazione for your consideration in realtà sta effettivamente sulla sua spalla non sta facendo niente di particolare attualmente asfig si si sposta raccoglie la spada anzi in realtà cosa aveva cosa aveva attacchi d'opportunità indonesio si 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 piglia l'attacco no no perché non la prende perché fa un passo tattico però mentre raccoglie l'arma si mentre raccoglie l'arma si sta raccogliendo l'ascia dal cadavere del del combattente quindi lui è terra io c'ho anche il bonus perché sono sopraelevato non è propriamente a terra cioè se è chinato si no lui è sceso però dalla sedia adesso si 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 ok scusami la regione è sopra la panca quindi si è il bonus per per colpirlo la sua prima l'arground vabbè ma tante miss ok raccoglie l'ascia da lancio e prova un tiro contro te akira 17 l'ulph è lo standard si ok 17 in totale quindi non ti prende no forse si no non ti prende direi proprio di no ok asfigo continua a imprecare praticamente ti lancia la lascia con tutta la forza che ha ma tu riesci a bloccarla praticamente dal manico prima che ti arrivi in fronte mi faccio una risata assolutamente inquietante bastardo rosso di merda coglione abominio che non sei altro vieni qua che ti apre in due ti apre il culo e te lo scopo completamente provo a venirci invece di tirare le cose come una stronza femmina anche se sta divertendo perché ti ricorda sandro si esatto è un sandro che posso picchiare davvero sembra sandro ma non è ma non è serve darti l'allegria ok bene prova a lanciare un incantesimo che bello madonna tanto la manco ragazzi porca puttana akira akira mi tiri di volontà ma ne aveva due di quello sei sicuro mi tiri di volontà akira si si te la tiro di volontà contro cos'è contro adesso vedi no devi dire se c'ho paralisi o sleep sleep è sleep ho più due perché sono in stile del drago bene bene oh oh il duro ti proteggerà contro gli uno più quattro quanto hai fatto eh no eh no eh no mi aspetta adesso controllo un attimo meglio io posso identificare l'incantesimo no con spellcraft aspetta aspetta si eh non è un incantesimo però riconosci che ha l'assoluto il benesimo il medesimo effetto di oh no una fattura si ha il medesimo effetto dell'incantesimo sonno chiaramente bene Akira va a dormire ma si standard action torna su come prima sta a me adesso si tocca a te ok io alzo un attimo la vachizzascia il cielo e grido Shizuru donami il potere per sconfiggere questi empi esseri viventi e uso l'ultimo punto di fervor per castarmi angelic aspect lesser ok ok e aspetta scusami usi la usi per pure no con con fervor l'attenato ah ok si quindi su inspection andarla puoi attaccare scusa io stavo parlando senza si uso fervor dura 4 minuti ho resistenza freddo e acido 5 e protezione dal male oltre alla visione carbuscolare e poi uso il movimento per fare l'intimidazione cioè per trontare cio bello intimidate per demoralizzarlo operare per tauntare per tauntare azione di movimento per fare antagonize si antagonize ok lui reindirizza le sue imprecazioni su di te se gira sono io il tuo avversario shizuru che che cazzo sai tu chi cazzo accoste shizuru shizuru è la dea della gloria e dell'onore tutto ciò che tu non hai maia ti si spacca la faccia coglione è tipo becerissimo questo tizzo so 13 danni ma che cazzo sei ma che cazzo ok 13 danni perfetto allora ta ta hai dann hai dann hai dann hai dann hai dann non temo gli attacchi di questi stronzi sono nove danni ah merda ma che cazzo ma questi non fanno non mancano mai in realtà hanno mancato cioè uno di loro ha mancato praticamente Akira riesci a parare il colpo senza problemi che cazzo paro il colpo sto dormendo hai ragione paro dormiente riesci a parare il colpo senza problemi in realtà si saprì che Akira è sonnambulo è violentissimo quando è sonnambulo aspetta mi confermate che il colpo di grazia è una zona di round completa bene bene perché sennò a quest'ora potevano succedere cose brutte ok tocca a me credo si tocca a te ti conviene svegliare il tuo amichetto si ma io faccio un passo qui e poi lo sveglio praticamente fai un passo indietro e poi gli tiri un calcio evidentemente il tuo calcio svegliati fratello sulle tempie lui tipo riprende conoscenza che cazzo ok 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 scusami sta a ciccio me si stavo guardando esatto sta ad asvik si gira verso di te anzi era girato verso di te fa un passo indietro un passo tattico non c'è attacco nice si ma deve deve attaccare entro il turno ah ok fa un passo fa un passo indietro raccoglie anche perché non ha armi raccoglie raccoglie l'ascia da lancio e prova a lanciartela ma la tira la raccolta prima del cadavere ne ha due gr niente non ti prende town in realtà si ma va a cozzare contro l'armatura e cade per terra bastardo infame come osi ripararti dai miei colpi che tra l'altro mi ha preso tipo di piatto non ho capito com'è andata è ubriaco ha tirato in mano col banico mi ha colpito ok io ci ho sprecato lo smite su sto coglione non vali manco lo smite intanto bene tirami tirami will save town c'ho il bonus di protezione del mare se l'ha cassato la tizia si will si aspettate un attimo che va bene niente niente praticamente ti senti per un attimo pervaso da una sensazione di di sonno gli occhi si stanno per chiudere quando improvvisamente senti la voce di Shizuru il suo potere che fluisce dentro di te e voi vedete com'è un'ondata praticamente dal corpo di town che esplode completamente in una luce accecante come se le ombre che stavano per calare sui due sono state debellate io punto la spada con tre faccio tu sei la prossima lei fa un passo indietro io invece ne faccio uno avanti sta a me giusto se ne faccio uno avanti faccio ma non ho ancora finito con te grido Akira riprenditi dobbiamo finire questo infame nani nani e provo a a calargli l'arma in testa vai cagliela cala cala il cazzo ho il più due della posizione ma penso che otto non basti in realtà è più uno ah vabbè è uguale tanto bastano uguali no non gliela cali non cali non cala noni quando manco noni la traduzione inversa di quello che ho scritto è uscito sei dopo avevo scritto sei la prossima ok ok asfi asfi che con l'ultimo barlume di coscienza che ha riesce a parare il tuo colpo con lo scudo allora akira sei a terra quindi hai un malus alla cia di 4 quindi sono aspetta però si sono sette danni qua stiamo brutti che bel combattimento non iornicamente o no veramente ok dunque c'è strano problemi quanto hai di cia aspetta quanto hai di cia aiden la solita 2.0 2.0 2.0 tu cazzo vai ok akira tocca a te aspetta non c'è qualche posa di combattimento e trialzi turbinando i piedi e sciotti tutti quanti compreso me non importa i servitori in tanti sono andati a mangiare il porco e niente le devo rialzare alzati alzati no aspetta fai così fai passo tattico e poi alzati così almeno prendi solo un attacco d'opportunità perché scusa beh ne prende 2 invece che 3 diciamo no ne prende 1 invece che 3 no 2 ah no aspetta però quello lì non sei tu quello lì è asvik beh ma quello lì non ha armi in mano è vero asvik non ha armi in mano quindi non può fare attacchi d'opportunità si è vero hai ragione beh ti conviene ah poi lascio aiden scoperta ma si aiden c'è la bacchetta di cura fa un passo indietro e si cura ok rotolo se lo potrà quella tipo tra l'altro rotola sulla panca esatto rotolo verso l'alto tipo un videogioco che clippi male contro le cose esatto mi rialzo prendo ado si e si scopri che in realtà anche asvik geran brawler in realtà è armato mi dispiace che è tutto brawler ok sono sono nove danni anche il camadon che vedo ogni stesso vabbè quantomeno ora puoi spaccargli la faccia è brutta questa cosa 13 su 46 un temere arriva anche a me ci sta piacendo questo combattimento ma chiaramente era da affrontare in maniera un pochino diversa siamo andati a bomba una saluta succede quando il master dice no tranquilli sono solo 6 quelli che stanno controattaccarvi e cazzo ma si svegliano tutti arrivano i mostri dalle pareti dal bracere 12 elementari del fuoco grandi ok quelli più acchi sono infermi però a me sembrano belli attivi anche akira però morto ma non ho attaccato lui ho attaccato questo ah ok beh ma in ogni caso morto morto si allora praticamente akira cosa cosa succede cosa succede ti sposti fulminamente rotolando con un piede fai da perno per saltare scattare praticamente mentre ti rialzi scatti alla gola di asfik è ubriaco non riesce a reagire in tempo lo afferri lo guardi negli occhi gli fai capire la vera natura demoniaca che ti avvolge e poi stringi la gola fino a quando i tuoi artigli non penetrano nelle carotidi e lasci che sanguini e sanguini fino a toglierli fino a far esplodere il sangue dadi a terra si si mette le mani alla gola inizia a borbottare il sangue riempie la sua bocca e scotta ovunque cade dalla panca con un frastuono avete ancora da combattere ma avete ancora coraggio sto grondando sangue sono tipo un effigie di sangue di tutti quanti con le braccia aperte avete ancora coraggio visto allora cosa succede gli altri combattenti sembrano visibilmente scossi ma non sembrano voler demordere mentre contrariamente la donna è già col piede verso la porta della cucina Aidan tocca a te ok faccio un passo indietro estraggo la bacchetta di cura e mi curo ok e quindi fa cacchiera no non ti preoccupare il fatto è che anch'io sono critical eh sì poi tu puoi difenderti o no la donna inizia a darsela a gambe elevate letteralmente corre via scusa ah no nulla ok è vero vabbè stame sì quella se n'è andata io faccio cur light once su su anche c'ho solo questo poi basta ma secondo me ti conviene attaccarlo perché è ferito quello davanti a te sai però sì tau no sì sì ammazzalo tanto anche la posizione è sempre elevata ok morto praticamente dall'alto un fendente un singolo fendente lo decapiti il sangue scorca dalla sua testa è un taglio perfetto netto come ti ha insegnato il tuo maestro la testa rotola per terra il cadavere il corpo cade sulle ginocchia e rimane lì così una decapitazione perfetta grido vabbè dopo il chia il chia classico quando porto il colpo poi grido Aidan fai il giro della casa quella sta scappando mi occupo io di Akira va bene signor sì signor capitano non ho sentito bene basta allora ok Aidan si avvicina a te furiosamente prova a colperti l'agilità tesna forse ti ha graziato un colpo del genere ti avrebbe portato via la testa fai un passo indietro distinto lo eviti ok Akira faccio un passo di un metro e mezzo scappando da questo aspetta no aspetta prova a colpirti ma non riesce quindi tocca a te vai faccio un passo di un metro e mezzo sul corpo del tizio sì come azione di movimento prendo una pozione dalla borsa pozione di cuore ferita moderate e mi bevo la pozione ok ok perfetto Aidan ok non si può correre e fare più di tot spostamenti vero? puoi fare doppio movimento eh infatti o per quattro in realtà ma correre mi pare che sia linea retta eh per quello chiedevo no corre no caricare linea retta corre inteso come movimento per quattro è normale movimento solo che per quattro e può fare solo quello durante il round ah sì allora lei ok allora lei allora lo stesso vale per me perché io vado tipo dall'altra parte del mondo prendendomi l'attacco d'opportunità chiaramente cioè ah sì 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 sempre con venti allora venti no non ti prende ok allora da questa parte cosa vede? non dovrebbe essere così tanto lontana da questa parte cosa vedi? eh sì allora praticamente non è non è lontanissima però è è più lontana di così diciamo 3-9 metri più là eh se si muove 9 metri fammi un tiro salvezza su volontà ah quindi lei si è fermata e mi ha guardata sì ok aspetta è buio no? ciascuna visione la tipo come ho fatto a vedere faccio anche faccio anche cosa ovviamente mao 14 14 18 ok perfetto perfetto superi il tiro salvezza ok lei ha cassato quindi più di 9 metri in arfa sì guardo Akira hai bisogno di altre cure o la inseguiamo beh ci sono anche tutti i soldati qui eh comunque eh sì sì ma se uno da dove sei uscito te non ci attacca ma in realtà sono letteralmente due alla porta cioè questi qui sono vivi possiamo passare di qua ah ok di qua sì ce ne sarò una proprio non ci passi vicino tanto è movimento sì poi questi sono per terra non possono farlo se gli passi su un tavolo questi no c'è questo al massimo tu lo aggiri sì basta non passare qua tanto continua a macellare questa gente che poraccia crista a loro che cazzo gli è andata male che festeggiavano il giorno sbagliato sicuro che questi vi seguono se non sono scappati con loro hanno fatto festa il giorno di San Gue quindi vabbè guardo Akira per capire inseguiamola ok ok non è inseguita e a questo punto però come la risolviamo cioè devi vedere come funzionano gli inseguimi generazioni veramente non è che c'è da dire quello Andrea cioè quella lì ha fatto nove metri quindi sarà al massimo a una trentina di metri io c'entro ancora con ragione 20 credo fallo e invece no il mao è vicino quindi dobbiamo guardare un attimo allora lei era quant'è quant'è il cosa il come si dice l'acido l'acido il fiatto acido è spense che vabbè ma stava sicuramente vicino cioè sarebbe assurdo il contrario oddio fa pochi danni potrebbe essere anche che c'era medio ma c'è di splash pathfinder però mi sa che fiotto acido è ancono no era la pallina era la pallina scusa ma close quanto arrivi col bonus dei livelli 10 e mezzo tanto corro più veloce io di lei però aspetta aspetta item ma cioè tipo aspetta mi poter usare per lo del potere però siamo più veloci di lei dopo tutto tu quanta velocità hai akira correndo 40 feet quindi la prendo per forza ma di base dico 30 però quando ho fin di sprinter quindi quando corro ho contati un 10 più in più allora la prendi la prendo per forza non c'è neanche da 40 feet quindi per 4 40 feet in più praticamente non c'è neanche da niente insomma ok beh sì lei comunque dopo aver visto che il suo attesimo riprende a correre come una forza innata akira la insegue i suoi i suoi piedi sono sono più potenti prestanti come affondano il terreno uno stile di corsa diverso da quello umano e presto la raggiunge buttandosi addosso fammi una roba di greppo esatto eh faccio la prova vi siete addentrati nella foresta nella nella tundra vi sono alberi fango e notte tauno non non riesce a vedere per conto suo chiaramente avrà luce incantesimo di questo tipo se non ci sono nuvole ci sono le stelle e la luna io ho visione creposcolare ah si eh si ho l'incantesimo di forma di aspetto angelico ma a parte quello anche con la luna e le cose penso ci sia dim light non di più ma a me con la dim light io ci vedo il doppio dell'uomo infatti ok perfetto perfetto comunque ragazzi me lo ricordo e castor lucidanzanti non è un problema così vediamo ancora un po' di più bene fammi la prova di grapple è veramente necessario fare una prova di grapple gli tiro un pugno ah ok no scusami è che non avevo capito cosa volevi fare no hai detto tu vai di grapple ho detto sì ok no vabbè se vuoi tirgli un pugno arrivo in piena corsa alzo il pugno disattivo board style perché ti serro il pugno non letale ok sono in carica bene arrivi da dietro lei sta scappando si gira un secondo è chiaramente distinto per capire cosa la sta cosa la sta inseguendo incontri la sua faccia ti copri negli occhi lasci andare il pugno stendendola in un colpo solo praticamente all'inizio pensi quasi di averle distrutto il collo di averla sfondata però poi quando controlli quando è a terra effettivamente sembra essere ancora viva ma la faccia è un è un tucurio di sangue e bava fango fango sì esatto si sta gonfiando esponenzialmente le hai rotto il naso chiaramente il labbro probabilmente anche le sopracciglia la prendo la prendo la prendo su a sacco ci stanno inseguendo quegli altri sì allora non la prendo su a sacco mi preparo a combattere contro gli altri diciamo che diciamo che l'arena è questa è il campo in cui siete ce li vedo questi ubriachi persi a correre di notte azzurri 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 bene vi osservano puntano le armi verso di voi barcollante mi mancano un paio in realtà in realtà adesso ma ci hanno seguito solo il loro in realtà in realtà adesso chiaramente la scarica d'adrenalina dice copre completamente gli effetti dell'alcol cioè nel senso meccanicamente no però loro sono li vedete che sono di non è che ruotano per terra è bello pensare ad una massa di ubriachi che barcollante nella notte mi uccido probabilmente quelli che non sono arrivati qua perché hanno fatto quella fine cioè che hanno inseguito e poi sono rotolati in giro a casa oppure nel caso di questi due si sono appena svegliati e hanno trovato tutto morto si esatto capo compreso comunque io quando li vedo arrivare dico cavolo questi sciocchi vogliono proprio morire per il loro onore posso provare a fare una prova di diplomazia per convincere la sciaperle ok ma sono ostile prima devi fare una prova per cambiare attitudine e poi devi fare una prova per fare una richiesta ok quindi posso tirare di diplomazia sì non puoi farla tipo con intimidire con intimidire la può solo per un turno e basta però solo per un turno come per un turno sì sì solo per un no con intimidire quella la versione lo fai il discorso comunque non basta tu ruola della salvage io gli punto la spada contro indico anzi la punto indicando la tizia a terra ne vale veramente la pena continuare questo scontro i vostri compagni sono morti il vostro capo è morto la sua concubina o quello che è è lì a terra priva di sensi e voi siete fradici di avicol siete spacciati non ha senso non voglio non vogliamo uccidervi per forza non è necessario lasciate perdere certo non vogliamo uccidervi per forza non basta perché lui ride no io nel frattempo alzo le mani io fossi in voi lo ascolterei anche perché ripeto sono un fondante di sangue fai una prova di intimidire ok ok seriamente seriamente volete ancora combattere o addosso il sangue di tutti i vostri compagni potrei aggiungere ancora il vostro alla collezione potete sempre venire qua a provarci oppure potete scappare e nessuno saprà che siete scappati io me ne vado ecco vai a vomitare da qualche altra parte l'altro si butta a terra e vomita poi scappa anche lui tipo un po' parcollante gli urlo dietro con tutto a pieni polmoni tipo un ruggito demonio e fu così che nacque la leggenda della bestia una satanata delle foreste vicino dopo tre secondi tornano in taglia colossale Andrea l'arbitre quando uccide il profetto della verità perfetto tiro fuori la corda e leggo la pulsella meglio evitare che mentre la trasportiamo riesca a lanciare incantissimi in realtà in effetti entraremo da qui è più sensato le spezzo anche le dita lo so che è crudale come azione eh sì però rischia che possa castare anche solo col movimento delle dita se c'ha le mani insomma ti guardo mentre lo fai cosa stai facendo aspetta sei sicuro di volerlo fare comunque cioè tu il tuo codice sono lb lei è lm c'ha un corvo lei è cm vabbè è m e io sono un fervente servitore del bene casta incantissimi ha rischiato defamori Akira e Aidan sì sono sicuro di farlo voglio mettere in sicurezza il mio gruppo se mentre la trasportiamo si riprende appena può lanciare un incantissimi che ci danneggia ma è ma è rischioso aspetta se la pinni bene con la corda non può farlo quando è pinnata cioè meccanicamente meccanicamente il pinning non ti fa castare somatico io questo non lo sapevo non sapevo che il pinning non ti fa castare somatico pensavo semplicemente che te teneva fermo a terra no basta che le leghi bene le mani comunque il corvo tra parentesi non è qua eh infatti volevo sapere non c'è non c'è vabbè il corvo adesso non c'è ma prima c'era quindi la teniamo legata sì perfetto bene rientriamo rientrata ciò che avete visto la prendo su me la porto io la breve passeggiata fuori il breve inseguimento vi ha fatto dimenticare per qualche istante qualche minuto ciò che avete compiuto qua oggi siete vi siete introdotti nella proprietà privata di una persona che non conoscevate qualsiasi un estraneo qualsiasi certo c'erano degli aggravanti c'erano delle supposizioni ma sarei fatto che avete massacrato decine di persone che probabilmente non avevano nemmeno colpa se non quella di trovarsi nel momento sbagliato nel posto sbagliato al momento sbagliato soprattutto i più pur di cuore quindi in realtà tutti voi vi sentite vi sentite l'anima dilaniata strappata a pezzi forse era l'unica cosa da fare ma è stata veramente la cosa più giusta è stato veramente ciò che ci si aspetterebbe da un campione di Shizuru da un fedele di Tesna e da un monaco che sostiene di sapersi controllare un monaco che si è addestrato per anni per far sì che la sua ira non si riversasse su innocenti e forse qui oggi quello che avete fatto potrebbe essere effettivamente una strage di innocenti ma i dubbi morali devono attendere perché l'imperatrice deve essere posizionata sul trono vedete che Akira va verso i cadaveri gli scavalca li guarda io sono entrato da questa porta entrando da questa porta ho ricevuto scuola mi dispiace ma non posso non posso pensare di dover chiedere anche a cosa di sacrificare la vita ci siamo difesi lo sentite lo sentite parlare quasi quasi come se non si riferisse a nessuno di voi in particolare quasi come è volersi giustificare quasi come se stesse parlando a se stesso per intrappolare il demone che era uscito in questo breve istante Akira sta cercando di controllarsi io mentre mi assicuro che la tizia è ancora svenuta guardo Akira si allontana e dico non preoccuparti fratello non devi cruciarti di questo posso assicurarti che l'anima di questa strega e di quel farabutto erano corrotte corrotte fino all'osso e chi lavora per anime corrotte non può certo compiere nulla di buono hanno estratto le loro armi perché quella era l'unica lingua che conoscevano tu li avevi anche avvertiti non c'è nulla di cui cruciarsi è stata una battaglia gloriosa c'è stato onore nel nostro combattimento abbiamo dato una chance e l'hanno rifiutata io effettivamente gli ho espresso la nostra intenzione io gli appoggio una mano sulla spalla Shizuru ha guidato questo combattimento la gloria la luce del sole ci hanno portato alla vittoria se Shizuru scusa se quello che avessimo protratto fosse stato un atto meschino vanaglorioso Shizuru non ci avrebbe aiutato già Akira come Dauno pronuncia queste parole ti senti rinvigorito da un'energia divina come se la gloria di Shizuru il suo volere flu nelle tue vene attraverso Dauno come veicolo mortale come campione della divinità scrollo le mani dal sangue guardandole per un attimo e richiamando la memoria tutte le gole strappate tutti gli atti fondamentalmente brutali che ho compiuto contro questi qua continuo a scrollarmi il sangue è vero ci siamo abbiamo sfiorato la gloria di Shizuru è comunque è stato un massacro esatto esattamente quello che penso non mi pento di ciò di cui abbiamo non mi pento di ciò che abbiamo fatto ma non dobbiamo mai dimenticare che si tratta comunque di vite umane non di non morti o di demoni da altri piani esatto non abituiamoci a questo cerchiamo sempre è chiaro che siamo entrati e abbiamo dichiarato le nostre attenzioni e loro hanno scelto la morte ricordiamoci sempre di non dare per scontato questo passaggio perché dare una possibilità è sempre necessario e poi chiaramente le conseguenze sono le conseguenze per tutti per noi e per loro è stata una battaglia una battaglia cruenta eravamo in minoranza non è stato un massacro questa è la nostra guerra la guerra per arrivare al trono dove Ameico dovrà sedersi e in guerra le vite cadono non solo quelle dei demoni non solo quelle dei non morti anche quelle degli umani anche quelle di coloro che non sanno accettare l'idea di non dover combattere per forza stringo il pugno le anime di tutti coloro che si metteranno contro di noi vedete che scuote Akira che scuote un attimo la testa come se mi si è visto qualcosa mi guardo dietro Akira il lato nero scompare una rissata nella tua testa rimbomba come se come se provenisse dal profondo della tua psiche una rissata malvagia non dico nulla però lo vedete che rimane un attimo fermo io gli do giusto una pacca sulla spalla poi mi avvicino ad Aiden Aiden dai un'occhiata in giro forse nella stanza del loro capo vedi se trovi la la spada io nel frattempo porto fuori i cadaveri si poi guardo Akira la battaglia è stata dura hai subito molte ferite Akira assiediti un attimo riposati sto bene sto bene e allora se stai bene dammi una mano a portare fuori i cadaveri qualcuno tenga d'occhio la strega vabbè ci siamo assicurati di prendere 20 cioè legarla proprio bene e poi comunque è talmente talmente ferita che non può recuperare tutti quei punti ferita in un attimo quindi sta disvenuta e basta ok li accumuliamo qua i cadaveri Aiden entri in quella che è la camera da letto di Asvik soltanto un pannello di legno separa questa questa camera dalla sala principale un grosso letto di piume occupa quasi tutta la stanza in cui sono stati fatti entrare a fatica alcuni bauli pieni di abiti ed oggetti personali ok come ho detto mi guardi intorno con Detect Magic ok allora all'interno della stanza non vi è niente rimanico ma qua vi è una porta per accedere diciamo ad un'altra stanza vai è esattamente quello che faccio allora all'interno vi sono forzieri o rastragliere e ganci sul soffitto che sono pregni pieni di qualsiasi cosa di armi e oggetti vari allora intanto te dico cosa c'è trovi trovi ad interessante una spada corta perfetta con un pomolo d'avorio di tricheco un paio di stivali elfici devi stare buono beh prima gli dicevo tutto e poi dopo pensavo cioè giusto per dare il feeling tipo di quindi dicevo beh è una spada corta perfetta con un pomolo d'avorio di tricheco un paio di stivali elfici 19 bracciali di leone dorato un fermaglio a scatola ingioellato tre mantelli di feltro pregiato cinque collari di rame cinque fermagli argentati cinque pomoli di spada d'argento strappati ai ripoli sconfitti un bastone interseco d'osso di balena tre piccole palle di lana d'angora pregiata è una borsa di feltro che contiene 258 monete d'argento e 47 d'oro ora ti scrivo tutta ok anzi in realtà ti faccio una foto non farmi una foto cazzo fammi un copia e incolla porca troia la cosa che lo fisico è il manuale è lontana tu e la carta è letteralmente un po' il texto di tesori anche se valgono quel che è interessante della spada e nemmeno l'ombra quindi no della spada nemmeno l'ombra hai danno più a 20 cerca sulla stanza non c'è niente se fosse qualche documento qualche foglio si ma quello non ti preoccupare si fa con calma adesso sono guardato la stanza per i tesori non c'è niente comunque sul cadavere di Aswig vi è una cotta di maglia perfetta scudo pesante di legna perfetta aspetta cotta di maglia perfetta scudo pesante di legna perfetta lancia corta più uno asce da lancia apertura bracciale test leone platino 350 ma voi parlate pure già intanto io scrivo cioè ruolate pure tranquilli no ma stavi già parlando quindi ah ok però adesso fatelo fatelo io ho detto quella cosa la tauro sei mutato no 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 questo lo dici dopo o prima che preghiamo prima di pregare ok allora ti faccio se non mettetevi fino a me ok ti guardo conosci il mincaiano si 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 allora ascolta bene queste parole chiaramente adesso non mi metto fa tutto il sutra la preghiera chiaramente è è una versione più come si dice mistica e e profonda del discorso fatto io prima e serve anche ad onorare e onora anche i caduti anzi soprattutto onora più i caduti di coloro che hanno effettivamente vinto la battaglia perché se non si onorano i caduti la battaglia non ha senso non c'è gloria nel disonorare il perdente e ovviamente lo faccio vedi proprio che apro il sutra come quando preparo gli incantesimi mi slaccio l'armatura tolgo la veste sopra e faccio il rito funebre ok svolgi un rito funebre ti senti ti senti accompagnato dalla tua dea dalla tua signora durante tutta la cerimonia i cadaveri dei caduti vengono consacrati le loro anime sono libere di lasciare il corpo verso l'aldilà verso quella grande spira che è il palazzo di Farah Asma per raggiungere ciò che gli spetta e probabilmente questi guerrieri finiranno diretti nel Valal perché non erano corrotti erano solo guerrieri non tutti sì non tutti chiaramente tranne Asfit beh allora Aidan la strega è una donna molto era era una donna molto affenente un paio di passioni come deve esserlo capelli capelli rossi capelli rossi color fuoco lentiggini in faccia era molto ben truccata prima che le spaccaste la faccia un bel corpo un bel corpo prestante slanciato vestita vestita con vari ninnoli che chiaramente simboleggiano il suo status era probabilmente la moglie di Asfit in testa portava una corona di rami e piume di corvo interraziata d'oro tra l'altro su di lei vi sono una era della protezione più uno esatto infatti stavo puoi dirte la spoglia di tutti ninnoli magici corda di seta magico vero aspetta protezione più uno poi corda di seta e fermaglio scatola d'oro e rame ah comunque tutti tutti i ninnoli in ommagici potete raccomularli diciamo in uno scriverci tipo ninnoli di Asfit tranne l'unica cosa che vi consiglio di tenere a parte è il bracciale del leone di platino cioè alla fine potrebbe simboleggiare la sconfitta di Asfit il trofeo del nemico beh sì immagino di sì è bello da tenere insomma ma sì infatti che cazzo dice no è che prima Tano mi fa no ma cerca la stanza no ma cerca bene no ma i fogli dico porca puttana ho capito poi tu no ma il cadavere di Asfit no porco di il cadavere di Asfit ho scritto cadavere di Asfit perché sopra ho scritto ciò che c'era per farvi capire che era il cadavere di Asfit ah ok lol calmi ortizio ma hai cercato sotto sotto i bauli le sedie potevi dirmelo però eh anche te i servitori fuggiti le raccolti cioè le cercati ho messi nella borsa tutti interi abbiamo cinque servitori quanto ci pagate ragazzi ragazzi ci ruoliamo e ritorno in città e poi ok perfetto no quale ritorno in città scusa aspetta no io vorrei che si sveglia vorrei che si sveglia la tizia si sveglia domani no no la svegliamo a pugni altro che che non so come sarebbe torna in città con un prigioniero o come la vedrebbero no ma infatti va risolta stasera sta cosa fine ok 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 aspetta ma comunque io mi tiro cura ferite leggera già che ci sono esatto se volete c'è la bacchetta allora mi risparmi cura ferite leggera no ma me lo tiro da solo tanto in teoria non c'ho tanti danni quindi meno che non tiro uno cosa che succederà tu Akira io sono a posto ok più o meno ok perfetto dunque aspettate che la tipa si riprenda passa più o meno un'ora chiaramente la fate la mettete sulla panca è stordita molto stordita si guarda in giro sembra scusatemi sembra come che non stia realizzando bene cosa stia accadendo come come se non avesse realizzato che tutti sono state sterminate per se la sua marita beh io la lascio un po' riprendere ok un attimo i oggetti che vi ho detto li avete segnati tutti li sto segnando ok perfetto lei lei si riprende un attimo e vi guarda sembra sembra impaurita ma da un lato anche sprezzante e arrabbiata hai capito che cosa ti è successo io io non li asco un po' di sangue li eh le do una pozione di cura no dal cura la hide sei sicuro non vedo perché farla non è in pericolo di vita allora ti dovrei accontentare di parlare così io io ah non non capisco come ti chiami? cosa succede? lasciatemi andare ti spiego brevemente le dico le dico il nome della nave datemi una pozione una pozione sto male mi sento male com'era martello di? eh ce l'ho nelle note aspetta vabbè comunque dico il nome della nave non ti dice nulla mi sento male martello di aril martello di pozione di aril pozione di aril cosa vuol dire? è ubriaca anche lei non ho capito mi date una pozione bastardi stronzi ti spacco la testa senti non credo proprio che tu sia in condizioni di fare la sguadrina o la cafona qui stiamo parlando del fatto che ti abbiamo appena spaccato la faccia e ti abbiamo fatto una domanda sei legata come una come un maiale come il maiale che sta là sulla sul fuoco ora la domanda è il martello di asvid asvid no di aril ti dice niente e se ripeti pozione forse ti mancheranno ancora due no aspetta e non mostrare il fatto che ti diano fastidio i denti ripetendo pozione perché farò in modo che Akira ti tolga anche gli ultimi che hai rimasto se ripeti pozione e cosa martello di aril martello di aril non so cosa sia martello di aril cerco di capire quanto il suo non so cosa sia sia legato all'alcol oppure al o se sta mentendo io rilevo i pensieri della tizia deve fare un tiro salvezza di c16 ok su volontà sì ok beh i pensieri sono confusionari ma oltre a questo Tauno ti sembra spaventata dalle tue minacce ma probabilmente capisce bene ciò che gli stai chiedendo ok saranno confusionari però li rilevo ah sì allora effettivamente nella sua testa comunque piombano i pensieri reali non distorti e allora praticamente scopri che Aswig ha ordinato l'attacco alla carovana e sia l'attacco alla carovana che il furto della spada di Finn e inoltre ha noleggiato il martello di Aril dalla cilda dei Corrieri di Brina e fa spesso affari con quella cilda mercantile ok mentre Tauno ripete la domanda io lo fermo non ce n'è bisogno ho la conferma è stato suo marito a noleggiare la nave a ingaggiare tutti quei soldati a ordinare loro di attaccarci allora la guardo di nuovo e faccio il leone ha pagato parte del suo debito dov'è la spada dico così perché comunque avremmo già discorso la spada la la spada io so che la spada è stata spostata non so dove è stata è stata spostata spostata quando è stata non lo so è stata spostata con Ulf Gormundr Ulf Gondrum Gormundr è stato spostato con la spada nella sua mente ha più senso quello che dice sì il prigioniero Ulf 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 è stato era appunto un prigioniero di Asfik Ulf è una guida una guida della corona del mondo ed è stato è stato spostato effettivamente dalla tenuta era qui il prigioniero non sa effettivamente dove ok quando quando approssimativamente in realtà non lo sa non lo sa non sa quando no da quanto manca Ulf Gormundr è vero beh se ci fosse scritto ve lo direi non lo sa non lo sa non lo sa chi l'ha portato via Asfik con la spada in che direzione non sai dove è Asfik con la spada dove è Asfik Asfik non ha più una spada non ha più la forza per brandirla adesso Asfik è ubriaco si è morto è morto è morto è morto devi sapere che tutti quelli nella stanza non ci sono più perché sono fuori in una montagna di cadaveri lei inizia a urlare a urlare selvaggiamente per chi lavoravate fanculo non lavoravo per nessuno io sono sono la moglie del capoclan Asfik con la spada con chi ha trattato Asfik negli ultimi tempi con chi ha trattato per attaccare la carovana chi gliel'ha chiesto chi ha pagato per farlo chi ha pagato per compiere il furto della spada non lo so so niente non ho idea hai maledetto tu i guerrieri io tu mi sopravvaluti coglione e allora chi è stato non lo so non sei proprio niente no io non so niente tutto quello che so l'ho detto veramente non l'hai detto ho dovuto tirartelo fuori io dalla testa ecco cos'era quella sensazione quanti altri crimini avete commesso cos'è un crimine di fronte alla morale relativa guarda la morale relativa è lì che brucia fuori insieme in una montagna di cadaveri giudica le mie azioni come voi guidrimi guidrigildi giusto era la parola guidrigillo la guardo quanti guidrigildi dovete ancora pagare io devo pagare solo la tua morte mi spiace per te hai fatto un pessimo affare ti hanno truffata hai un debito che non hai un debito da saldare allora che non ti ha visto avere una parte vantaggiosa nella trattazione risparmiami la vita e ti aiuterò starò la tua puttana scuoto la testa quando dici puttana in realtà è un piccolo pensiero porcello faccio però ho la deviazione per il pagare le troie però scuoto la testa e faccio non mi convincerai con un mero servidismo da strada sto lanciare incantesimi anch'io è meglio di te quanto pare non ride che cazzo vuoi capelli verdi li taglio e te li brucia con l'armetta schifosa che hai in testa hai parlato anche troppo sto scherzando sto scherzando no scusate scusatemi signore scusatemi risparmiatemi risparmiatemi che dite che dite di portarlo da come si chiamava il mercante per quanto mi riguarda portarlo in città non mi sembra una grande idea non possiamo almeno lasciarla qui legata oppure giustiziarla sei tu quello che giustizia malvagi guarda le spalle allora le faccio un intimidire se io ti risparmio la vita tu abnegherai tutto quello che è il tuo passato utilizzerai le tue conoscenze per aiutare la gente questo mi pare per diplomazia no no lo faccio minacciosamente proprio la prendo per la collotta altrimenti il giudizio di Shizuru calerà su di te e non ci sarà nessuna altra chance puoi giurare sulla tua anima che sia dannata che rispetterai questa mia grazia io sì 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 assolutamente sì 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 io sarò bambina affanculo è il set di San Smotin vabbè intanto ascolta le sto guardando la testa ah ok giusto comunque guarda comunque un appunto meccanico off game questa cosa che stai facendo è una costrizione diciamo che lei effettivamente tra qualche ora potrebbe aver già cambiato idea semplicemente perché con intimidate funziona così a meno che tu non abbia tipo una doccia da ladro particolare non puoi e se rifacessi la scelta no ormai l'ho fatta quindi beh puoi aggiungere qualcosa con tipomazia non so ce lo potrei che lo concederei mi sto avvicinando tau tau non puoi redimermela lo sai ascoltami la luce il bene che esiste nell'universo che permea l'interesistenza è capace di perdonare non ti conviene continuare su questa strada guarda guarda dove ti ha portato dove ha portato tuo marito dove ha portato i suoi servi cosa ti è rimasto non ti è rimasto nulla davvero preferiresti morire che migliorare la tua anima che pulire la tua anima tu non sei una bestia sei un essere umano lei sorride sorride tristemente a queste parole hai ragione non mi è rimasto niente uccidimi adesso concedi grazie lascia che mi ricongiunga con mio marito ce l'abbiamo un pugnale sei sicuro è questa la tua ultima volontà guardo akira faccio no no non akira non farlo così abbiamo un pugnale non ho motivo per cui vivere perfino il mio estremo egoismo edonismo e la mia istinto di sopravvivenza tutto ciò che ho fatto nella mia vita cosa farò adesso perché continuare a vivere sono la moglie di un capoclan morto i suoi uomini sterminati cadrò in disgrazia in rovina finirò a fare la puttana nel distrito delle ossa tanto vale morire adesso sei sicura di queste tue parole sei estremamente io la faccio a recuperare un pugnale aspetta un attimo aspetta sei proprio sicura di queste tue parole guardami negli occhi e dimmi che sei sicura lei lei non riesce a guardare però io so che lei vuole morire o no cioè lei cosa sa in questo momento pensieri suicidi guardami negli occhi e dimmi che vuoi morire non ti guarda se non la prendi tu per il mento insomma ok se non lo fa perché non lo fa spontaneamente non lo dico allora farai questo durante la notte non sarai una puttana nel distretto delle ossa durante il giorno non sarai la strega che ha cercato di ucciderci poi guardo i due verrà con noi non sembra una pessima idea è l'unico modo per tenerla sott'occhio per non ucciderla e per non lasciare che muoia e che lasciare che muoia e non lasciare che vada in disgrazie è la luce che possiamo portare così o lasciare che si uccidi e avremmo perso e non avremmo perso lo stesso pensiamo a giudici questa volta sono con Tauno lei lei sorride la luce di cui parli cosa cosa significa demone cosa cosa vogliono dire le due parole vacue vuoi prendermi prigioniera vuoi vuoi portarmi con te perché perché pensi che tutto ciò possa ridimerti da quello che hai fatto oggi qua non succederà demone non lo forzo però la spingo levemente per riridi di farsi da parte sostanzialmente lo vuoi sapere cosa questa schiavitù vuoi prendermi come schiava vuoi andare contro il mio desiderio di incontrare la morte di ribbeggiare mio marito perché tu tu pensi che sia la cosa giusta da fare ma se è solo un egoista un egoista viziato che deve nascondere i suoi demoni e forzare la mano degli altri ad agire come vuole lui Akira non è risparmiando una strega malvagia che ti redimerai per l'aver ucciso dei soldati ma allora prendo la spada quella spada che è una di quelle che abbiamo trovato gliela poso davanti abbia almeno il quarto di togliartene la vita annubisco ad Akira mi metto in ginocchio davanti alla donna prendo la lama e la punto la tengo ferma a terra la guardo ripeti con me poi con una mano le afferro la nuca non mi interessano i tuoi riti ripeti con me io andrò nel Valhalla non andrai nel Valhalla se non purifichi la tua anima il Valhalla è per gli eroi per i gloriosi ho parlato del Valhalla con la vostra gente tu non lo meriti ma puoi ancora guadagnartelo ripeti con me io non voglio morire andate via lasciatemi qua se domattina mi sveglierò allora avrò capito che il mio tempo su questa terra non è ancora finito altrimenti uccidetemi voi adesso e proverete ciò che penso sulla vostra stirpe non avete una scelta la la sollevo la porto sul letto e la slego le lascio su uno di questi quasi le lascio la spada e poi le sussurro all'orecchio accetta la legge dell'universo e me ne vado lasciamola il suo destino è ridotta male forse i sei servi la salveranno tornerà a peccare e verrà uccisa da un suo rivale o forse troverà la comprensione nell'universo e si toglierà questa vita che non merita torniamo in città ok tornata in città è sempre notte notte inoltrata un'altra tua ora di cammino in cui avete da pensare a tutto quello che è successo da pensare a questa donna così contraddittoria che però una cosa ve l'ha comunicata la paura della morte l'abbraccio del freddo del cielo quando arriva non risparmia nessuno nessuno incontra la morte con piacere camminate fino fino alla città dove dove chiaramente vi rincontrate con i vostri che però stanno stanno dormendo l'unica che è sveglia apparentemente è Shalelu sempre in guardia Shalelu tra l'altro essendo un elfo non deve dormire deve riposare quattro ore in una trance particolare quindi è quella che presta meglio si presta meglio a fare questo tipo di cose comunque non dico più niente vado a dormire mi lavo dal sangue in qualche modo a proposito volevo fare una domanda così di flavor com'è che ci si lava in questi periodi in realtà se tu casti presti digitazione sei pulito si tu che sei caster se no comunque nella lista del equipaggamento c'è proprio saponetta quindi cioè ci si lava col sapone tipo se scalda l'acqua e se se lava nei vasconi sì anche secondo me le persone povere generalmente che possono permettere poca legna usano la stessa acqua e se lavano le meno però si faceva in quel modo ok ah un'ultima cosa una una delle cose che ha individuato nella sua mente Aidan è che il giorno successivo all'alba verrà verrà eseguita la cerimonia di eh il funerale insomma di di snorri occhio di pietra il vecchio Jarl morto il il signore alla fine delle terre di Asvik il signore di Asvik loro festeggiavano per la morte del signore in onore del signore e alla mattina all'alba in realtà la lunga nave verrà sospinta verso il largo le varrà da fuoco vabbè nel viaggio di ritorno anzi in realtà lo dico subito così potrebbe avere qualche rilevanza quindi li avverto va bene ok magari il giorno dopo potremmo andare a vedere sì anche se all'alba ormai non ci arriviamo per il funerale però potremmo sapere un po' di più esatto però diciamo che quando rientrate in città di notte comunque qualcuno potete chiedere andate in realtà in realtà sì diciamo che ma non credo che siamo dell'umore per metterci a chiedere informazioni la sera stessa no infatti cioè non so Aidan io figurati dopo una battaglia del genere aspetta non è il giorno dopo in realtà il sesquale è scritto il sorge è del sole però sì non è il giorno dopo tra qualche giorno ok vabbè comunque nel viaggio quando lui insomma c'è queste informazioni decideremo se mai chiede informazioni sì mentre Akira va a dormire non so che fa Aidan io mi avvicino a Shalelu mi siedo lì prendo il flauto e suono una melodia un po' amara dolce amaro diciamo così se Shalelu Shalelu non fa domande sta lì in silenzio con te a contemplare questa melodia la città i soborchi di questa città così grande e anonima sembra sembra apprezzare la tua musica Tavono e sembra quasi come se la confortasse e un po' anche tu ti senti confortato da tutto questo l'unica luce che puoi ritrovare in questo mondo terreno è Shalelu la vedi come come un esempio da seguire lo possiamo anche chiudere qui non volevo farla con Shalelu sì 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 chiudiamola ok avete fatto avete scritto gli oggetti ritrovati penso che ci sia tutto sì ok perfetto quindi beh addio livelliamo no non penso l'indicoste recentemente aspetta guarda effettivamente non vi avviate tipo due sessioni fa no sì sì non dovete aspetta in realtà ho ammazzato un sacco di roba sto guardando non vai sì lo so che non vai xp tanto sulle guide ci ha scritto tipo a questo punto dovrebbe essere però è un po' labile qua in questo capito ti lascio decido vabbè tanto c'è una settimana poi riceve con calma e poi tanto livelleremo semmai o se no anche perché io penso che possiamo aspettare anche un'altra sessioni ok va bene d'accordo buonanotte ciao a tutti ciao 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 ciao